RESTLING CAFFE BY NIGHT Vi ho offerto da Costruiamo cucinini su misura Ad alta specializzazione Monoblocchi per zona cottura Lavello, frigoritero o congelatore Lavastoviglie da 45 cm Con trasporto e montaggio Finalmente qui li scegliete voi Facciamo i conti? Porti via più monti tu Uguale prezzi d'ingrosso FBA di Bruno Corso potenza 183 Angolo di Alucento Torino Boe spezzi d'ingrosso eccoci in onda, eccoci in onda 22 e 24 di martedì 14 aprile 2020 un attimo di ritardo, non tanto nell'inizio della trasmissione ma nello spegnere la sigla per il semplice motivo che ero dovuto, come ci dicono in questo periodo, ho andato a lavarmi le mani per più di 20 secondi e sono arrivato leggermente fuori tempo rispetto all'inizio della trasmissione se stai parlando Mattia non ti sento, se non inserisci il microfono, eccoci qua, lo dice anche la WWE di lavarti le mani, si esatto, anzi, diciamo con una faccia di tolla di quelle proprio... sono oggettivamente uno di quei, come si dice, una delle attività, come si dice, essenziali hai dell'elio nella tua stanza, per caso, arrivi un pochettino più alto di voce rispetto al solito, sarà il programma, non lo so penso sia il programma perché... adesso è meglio adesso è meglio, prima avevi l'effetto Elio un pochettino sulla voce non proprio a livelli comici, però a livelli che... senza le storie tese però no no no, Elio proprio quando tingo il palloncino, che peraltro non pare sia anche non la cosa più salutare del mondo da quello che gira allora, facciamo che arrivare in studio, eccoci qua, buona serata a tutti, benvenuti ad una nuova puntata della nostra web radio c'è... noterete qualche piccola differenza web radio che non si fermerà contro ogni previsione esattamente perché pensavamo che andassero in pausa e invece... e invece no, e invece vanno regolarmente avanti come se assolutamente niente fosse, vai sono uno sport fondamentale sono un'attività fondamentale così sembra, così sembra però, tenendo conto che in Florida più o meno tutti gli sport sono considerati tali non li biasi, cioè non è che... sono le uniche merde in questo caso da qua, cioè, diciamo, in questo momento è l'unica che opera, va detto la WWE però la cosa potrebbe naturalmente cambiare da qui a qualche giorno perché comunque nell'ordinanza da parte del... da parte del governatore della... del governatore della... diciamo della... della... dell'appunto della Florida c'è apertura praticamente per... apertura praticamente per tutte le attività professionali a livello... a livello di sport e a livello anche di intrattenimento quindi... quindi c'è la possibilità veramente di fare... di farvi tutto e di più praticamente da quel punto di vista adesso devo... diciamo che... ti dirò... secondo me... la... adesso la WWE ovviamente ne approfitterà come... ne approfitterà di questa cosa... certo... ovviamente... e se i canali... e i canali comunque per ora non hanno ancora detto nulla su questa cosa quindi ai canali va benissimo questa situazione la grafica... e forse questo è un po'... no... stavo dicendo... rispondevo a chi diceva in chat... bella... bella la grafica... non è... non è completa la grafica... adesso manca... ma... io non ti vedo neanche in... in video su Discord... non so per quale motivo... prima ti vedevo adesso no... non attiva la webcam... adesso adesso metto... adesso metto... adesso metto posto... l'unica... l'unica cosa che devo... che devo fare adesso è questa... datemi solo un secondo... un secondo di tempo... che accendo il... accendo il... il programma praticamente che uso per... fare la... per fare la barra... no... semplicemente la... la chat è un po' troppo... la chat è un po' troppo... è un po' troppo grande... a livello di... diciamo... a livello di... a livello di... quindi devo... devo cambiarlo un secondo... e adesso fare anche la barra... con il nuovo programma... dicevi scusa... no... non sta giocando a WB2K20... sta giocando un gioco decente... credo Mattia... e quindi non... sto giocando a... Lego... 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 Lego Super Heroes... sto giocando adesso... eh? no... no... ho capito... no... sto giocando a Lego Super Heroes... che è un gioco che mi rilassa... sinceramente... quindi... sono quei giochi... dove non devo neanche pensare... più di tanto... ci chiedono... ci chiedono subito su YouTube... che senso ha... rimettere Bray Wyatt... per il titolo di nuovo... questo per quanto riguarda... ovviamente... il titolo di... il titolo di... allora... e se non è per il... e se perde il titolo... e se perde il titolo... non va per il titolo... si lamentano... che non è per il titolo... ok... e se va per il titolo... ci lamentiamo... che va per il titolo... non va bene un cazzo... con Bray Wyatt... evidentemente... c'è... divide... è molto... è molto divisivo... a livello di giudizi... questo... questo... questo è evidente... tra l'altro... a SmackDown... non c'è... non c'è... non c'è nessun altro... ma poi l'ha fatto il match con Strowman... non vedo... non vedo che... esattamente... è troppo... è troppo... è troppo diciamo... come posso dire... è troppo... è stato troppo danneggiato... a livello di booking... quindi... in questo momento... in questo momento... è veramente improponibile... provo un attimo... effettivamente... sei troppo alto a livello di volume... quindi adesso... provo un attimo ad abbassarti... così le cose vanno... meglio... Definda come credibilità... è morto a Super Showdown... l'hanno un po' recuperato... con questa storia... ma che cazzo stiamo dicendo... su... dai... ma non è vero... non è vero... su... non diciamo... no... semmai... 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 ha vinto il titolo... quindi... non credo... semplicemente... cioè... allora... domanda... per non ammazzare la credibilità di Bray Wyatt... cosa doveva fare? non perdere mai il titolo... per tutta la vita? Gesù santo... ah... no... vai avanti... che cosa vuol dire sta cosa qua... della credibilità di The Fiend... eh... cioè... qualsiasi... cioè... non doveva perdere mai il titolo? tanto... a questo punto... ci saremmo arrivati comunque... che lo perdesse a Super Showdown... lo perdesse a Verstelmania... quindi... che differenza fa? eh... abbiamo i dati di ascolto di... di Raw... vuoi... vuoi saperli? eh... mali? male... la prima ora... la prima ora... 1.994.000... seconda ora... 1.913.000... terza ora... 1.832.000... per la prima volta... la WWE... fa tutte e tre le ore... sotto i due milioni... la media adesso non l'abbiamo fatta... però... dovrebbe essere... intorno al... 1.910.000... più o meno... anzi... credo che sia... 1.913.000... perché la distanza... la distanza tra le tre ore... è esattamente... 162.000... spettatori... e la distanza tra la prima e la seconda ora... è 81.000... 81.000 spettatori... che è esattamente la metà... quindi la media dovrebbe essere... 1.913.000... per quanto riguarda... allora... ehm... a livello di... cioè... purtroppo... non puoi farci... non puoi essere... cioè... purtroppo... sono brutti come dati... eh... ma la situazione è questa ormai... quindi... lì... penso che fino a che... non si tornerà... non si tornerà il pubblico... secondo me... il wrestling perderà... comunque sta perdendo... sta perdendo tutte... sta perdendo tanto anche... cioè... la puntata di ieri sera... non è stata neanche... bruttissima... è stata anche una buona puntata... però... ti dicevo oggi... io mi sono abbastanza annoiato... non tanto per... lo show in serie... lo show non è stato brutto come... come o noioso... meglio come quello della settimana scorsa... però... mi sono annoiato per i match... cioè comunque i match... senza il pubblico... dove non c'è il diversivo... come per esempio... fa l'AW... che comunque mette cinque persone da una parte... cinque persone da un'altra... e quantomeno servono un pochettino a far casino... i match svolti nel silenzio generale del performance center... sfortunatamente... mi annoiano... cioè comunque... o meglio... rendono anche un buon match noioso... purtroppo dal mio punto di vista... e il guaio è che purtroppo... il guaio è che non si può fare niente... non si può fare nulla... purtroppo... però ti aggiungo una cosa... anche fare come fa l'AW... ok... però dopo un po' non è... comunque non è la stessa cosa di avere un pochettino... certo... però è meglio... sono d'accordo... però è meglio che avere il silenzio... cioè il... per carità... senti meglio le cose in ring... però... vedere anche il nulla vicino... alla fin fine... il nulla più che altro del performance center... che adesso... se non altro hanno cambiato... però ti faccio... ripeto... è un diversivo... cioè comunque è un... è un... come posso dire... è un pagliativo alla fin fine... però... aiuterebbe... cioè non è che... facendo questo... dall'oggi al domani vai da un milione e otto... due milioni e due... due milioni e tre... quello è ovvio... dal punto di vista degli ascoltatori... lì purtroppo non si può fare nulla... però... dal mio modesto punto di vista... di persona che si guarda tre ore di show... il... il martedì mattino... quello che è... l'uno di notte se lo guardo in diretta... o anche per esempio... il pubblico americano... secondo me... renderebbe un pelino meno noiosa la situazione... poi ripeto... non cambia niente... comunque alla fine parliamo... parliamo veramente di lana caprina... vai... no... il problema è che secondo me... cioè comunque... anche se metti delle persone... comunque del roster a far casino... sì... ok... può far ridere... può... può comunque essere un paliativo... ma il problema è che comunque... uno... non danno... non... non sostituiscono le reazioni che può avere il pubblico... anche a livello di... eh... come si dice... di... eh... di reazione alle cose... perché comunque sono persone che comunque devono... seguono uno script... cioè non c'è un... non è come se il pubblico che il pubblico fa quello che vuole lui... e così via... e quindi hai delle reazioni genuine... comunque delle reazioni... comunque finte... e allo stesso tempo comunque... ok... una due volte... la terza volta anche questa cosa qua stanca... ma il problema c'è... è una cosa che purtroppo non possiamo risolvere... e... non lo risolveremo per almeno... sei mesi... cioè comunque ci dobbiamo abituare a questa... a questa situazione... se guardiamo il resting... assolutamente... assolutamente... purtroppo di altre soluzioni in questo momento... non ne vedo io... purtroppo... e penso che non ce ne saranno... no infatti c'è... purtroppo è una situazione che... eh... come posso dire... è una situazione che purtroppo non... è destinata a non... a non cambiare da quel punto di vista... purtroppo... eh... sarà anche una cosa di cui dovremo tenere conto... quando poi... il pubblico riuscirà a tornare nell'arena... nel senso... ok... tutti questi spettatori che stanno andando via... perché ne stanno andando via veramente tanti... in queste... in queste settimane... per quanto riguarda la WWE... e di riflesso... sarà così anche per le altre compagnie... perché è inevitabile... dove va la WWE... ma non anche le altre compagnie... vedi... vedi anche il drop... anche le WWE ha fatto un bel drop... assolutamente... perché è passata da 9... da... è passata... in queste... in queste settimane... la prima... la prima puntata del lockdown... quella dove... beh... NXT aveva fatto la puntata di recap... ha comunque fatto... aveva fatto 900mila... 900mila qualcosa... già la seconda settimana... 800mila... sta settimana... adesso sono due settimane che fa 600mila le WWE... sono d'accordo... sono d'accordo... non è un brutto... è un bel drop anche per loro... infatti volevo... volevo dire... il... adesso vediamo questa settimana... c'è il match titolato... magari... magari riescono un pochettino a recuperare... comunque vediamo... vediamo quello che succede... eh... il discorso che volevo fare è questo... specialmente per quanto riguarda la WWE... che comunque è quella più colpita... in questo momento... da questa situazione... a livello di ascolti... questa gente che sta andando via adesso... ed è una cosa... è una domanda che ci siamo già fatti... le settimane scorse... questa gente... la gente che va via adesso... tornerà poi... più avanti... a fine... a fine anno... perché... una volta che ti togli l'abitudine... e dura recuperarla... un'abitudine in generale... non parlo solamente di wrestling... parlo... parlo proprio dell'abitudine in generale... nel momento in cui ti riesci... ti riesci a togliere un'abitudine... e poi dura riprenderla questa abitudine... quindi... eh... chi ci garantisce che... nel momento in cui tu smetti di vedere il wrestling... ti togli l'abitudine di vedere il wrestling... al lunedì sera... questa... questa abitudine riesci poi tu a recuperarla... cioè ritorna... ritornerà questa gente... a vedere il wrestling... perché... mh... non sono convinto di questa... di questa cosa... perché comunque lo stiamo vedendo... cioè... da anni lo stiamo... lo stiamo vedendo... questa cosa a livello di ascolti... comunque la WWE... continua a calare... continua a calare... tutti gli anni comunque perde... 300... 400... quello che è... 1000 ascoltatori... questi ascoltatori... non tornano... c'è poco da fare... non tornano questi ascoltatori... perché vanno... probabilmente a fare altro... lunedì sera... o a vedere qualcosa altro... perché comunque... il prodotto non le tira più... quindi... questo... questo diciamo... questa... questa diaspora di ascoltatori dovuta... secondo me principalmente al format... cioè comunque il fatto che comunque il wrestling... in un'arena vuota non tira... eh... non so se poi riusciranno a recuperarla... quando... eh... quando poi... se e quando poi... perché comunque dobbiamo... eh... dobbiamo chiederci anche quando sarà questo... questo momento in cui rivederanno il pubblico... eh... il pubblico delle rene... perché comunque non credo che sarà una cosa che arriverà... che arriverà tra due... tra un mese... o tra due mesi... sarà una cosa che temo... piuttosto lunga... eh... io non sono convinto che questa gente poi andrà a ritornare... praticamente a vedere... a vedere... a vedere la WWE... e questo sarà poi... tra... quando sarà ora di ridiscutere i contratti televisivi... un grosso problema... per quanto riguarda la WWE... perché comunque... faccio solo un esempio... ieri sera per esempio... la WWE... eh... avendo comunque... avendo un milione e 994... un milione e 913... un milione e 832... ha fatto terza, quinta e settima... a livello di... a livello di faccia di sottoquattura... è vero che ci sono le news... che stanno... che stanno sfondando... Fox News del sede pomeriggio ha fatto 6 milioni e mezzo... eh... e poi nelle altre... tipo alle 8 di sera ha fatto 5 milioni... alle 9 di sera c'era... 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 come si chiama... eh... c'era... eh... Fox News ha fatto 4 milioni... eh però alla fine 4 milioni e mezzo... sto guardando i dati... i dati serali praticamente del... di Fox News... Fox News va molto forte alle 6 e le 7... perché... guarda a caso... è il periodo in cui c'è anche la conferenza stampa di Donald Trump... guarda a caso... eh... però... eh... tipo alle 8 di sera... Tucker Carlson fa 5 milioni... alle 9 di sera... 4 milioni e mezzo... che bene o male è quello che fa tutte le settimane... non c'è sto... sta grande... sta grande... diciamo... sto grande discostamento dal punto di vista... eh... dal punto di vista degli... dal punto di vista degli ascolti per i canali di notizia... bene o male... è un periodo in cui comunque sono... sono tutte intorno alla stessa cifra... semplicemente... il prodotto... il prodotto resting in un'arena vuota... tira sempre di meno purtroppo... per quanto riguarda gli ascolti... e ogni settimana gli ascolti calano anche... in modo... in modo consistente... quindi... è una situazione non... non bella... purtroppo... e la cosa grave... ripeto... e do pienamente ragione a Mattia quando lo dice... che purtroppo è una cosa per cui non c'è soluzione... non c'è assolutamente soluzione... no... non c'è soluzione... ma ti ripeto... il problema è che questa roba qua... probabilmente... cioè... sta influendo comunque sul prodotto resting in generale... perché comunque anche... c'è... le due compagnie principali in questo momento... sta soffrendo... assolutamente... anche la IW è calata... anche assolutamente la IW è calata... adesso vediamo... l'IW... l'IW comunque... sono quasi a vedere il dato di mercoledì... per vedere... perché c'è il match di tuo lato... l'hanno promosso comunque per diverse settimane... magari... un pochettino meglio va... non mi aspetto... 950.000 spettatori... però magari sopra i 700... 750... magari riesce anche ad andare... contando anche il fatto che... per esempio questa settimana... i NXT non avrà gargano contro Ciampa... comunque la settimana scorsa... non avrà gargano contro Ciampa... quindi... magari finito quel match... un po' di gente magari... torna a spostrarsi nuovo verso la IW... comunque lo vedremo... lo vedremo giovedì... quando usciranno i dati d'ascolto... detto questo... sì... effettivamente c'è stato un... comunque... cioè il problema è che comunque... anche quella roba lì... comunque il drop è grosso... cioè anche per... cioè per tutte le compagnie in questo momento... c'è un grosso salto di... una grossa diminuzione... di diminuzione degli ascolti in generale... e questo comunque influirà anche sul futuro... cioè sul futuro... comunque... il problema è che adesso... ci preoccupiamo del calo di ascolti da WWE... però comunque... secondo me bisogna preoccuparsi del calo di ascolti generale... in questo momento del prodotto resting... perché è evidente che... non... in questo momento di... di... come si dice... di... emergenza... soprattutto per quanto riguarda l'America... che in questo momento è veramente in una grossa emergenza... è evidente che il prodotto... che la gente non vede il resting come una valvola di sfogo... o comunque non è interessata al prodotto resting come valvola di sfogo... in questo momento... e poi bisognerà capire se questa cosa influirà anche nel futuro... ovvero nel... aspettare... vedere come si comporterà la gente... o se... poi quando finirà tutta questa cosa qui... si potrà ritornare nelle arene e via dicendo... il pubblico tornerà a guardare lo show... è un'ottima considerazione... io sono molto pessimista... sono molto molto pessimista... però il problema è che se sei pessimista sulla WWE... anche sugli altri... anche gli altri lo prenderanno in quel posto... assolutamente... assolutamente sì... assolutamente sì... bisogna vedere... bisogna vedere se ritorna il pubblico dei giovani... pubblico dei giovani... se ritorna il pubblico dei giovani... magari... la IW che comunque ha un pubblico più giovane rispetto alla WWE... magari può limitare i danni... però sì... di base... di base comunque è una situazione negativa... per entrambe... per entrambe le compagnie... non c'è... però... adesso ti dir... ti dicono... i giovani che in questo momento sono comunque a caso... comunque sono... sono... fanno altro... fanno altro... certo... i giovani comunque in questo momento... assolutamente sì... stanno facendo altro anche loro... quindi... eh... non lo so... assolutamente... non lo so... ripeto... io la vedo dura per tutte le compagnie in questo momento... assolutamente... assolutamente... assolutamente sì... cioè... per la WWE... ma anche per l'AW... perché ripeto... il calo dell'AW è bello... è stato grosso comunque... sì... è importante... come... come è grosso quello WWE... naturalmente... comunque... sì... come è grosso quello WWE... assolutamente... se la media è un milione e nove... ha perso 400 mila nel giro di pochissime settimane... che comunque è un dato... è un dato impressionante... parliamo di un quinto praticamente... parliamo del 20%... di... di ascoltatori praticamente... ma assolutamente... cioè... non è che... ripeto... il fatto è che non è che la... la WWE... da questo ragionamento... è esente... comunque tutte le compagnie ne risentiranno... no... assolutamente... soprattutto quelle che sono ferme da tanto... certo... certo... perché... la Ringovonor è praticamente ferma da una vita... certo... dal 29 febbraio... assolutamente... in WWE... sì... in WWE... e lei mi diceva... non sono riusciti a prendersi Rush... e comunque si stanno facendo altro... cioè... comunque alla fine lo fanno stesso... certo... tanto a Rush conviene quasi di più... starsene in... il Ringovonor che è main event... piuttosto di andare in WWE a fare... il... il... il midcard... sì sì... e sotto quell'aspetto... ha comunque ragione... e non mi ricordavo... e io non sapevo che praticamente Rush... è diventato campione... da... un mese... sì... cioè è diventato campione... e poi ha chiuso la compagnia... sì... io ero rimasto... non è che ha chiuso la compagnia... precisiamo... non è che ha chiuso la compagnia... che ha fallita... sì... però comunque la compagnia è in... a livello di event... hanno rifatto la stable di Rush... e gli hanno dato il titolo... certo... esatto... esattamente... ah... no... intanto salutiamo Gianluca Rouge... che ci ha raggiunto... buonasera Gianluca... ho finito adesso il box di Plexiglas... buonasera... il box di Plexiglas... perché è finito il box di Plexiglas? eh beh... ci stiamo preparando per l'estate... ah sì... ho visto... ho visto... ho visto l'articolo... ci siamo già partiti con l'attività... ho visto oggi... si stanno preparando per le spiagge con i box di Plexiglas... che non so come funzioneranno... noi li stiamo producendo... ne abbiamo già due... in Pro 5... quindi se li volete... a 2.000 euro li vendiamo... ti ringrazio... ti ringrazio... ma... credo di no... allora... piccola nota... perché abbiamo cambiato un pochettino la grafica... eh... abbiamo anche la possibilità di mandare in... di mandare in onda dei tweet... quindi se volete... eh... se volete... utilizzarvi... potete mandare... mandare dei tag... eh... dei tweet... credo scusa... utilizzate l'hashtag Vresti in Caffè... in Caffè... li mettiamo in onda... e appariranno in basso a destra... praticamente... sul nostro monitor... non so... non so quanto si leggeranno... perché saranno un pochettino piccolini... però comunque... arriveranno... se no c'è sempre la chat... le due chat... quelle di YouTube... e di Twitch... che comunque sono... in sua impressione costante... eh... quando ha pronto da avervi iniziato sul declino... quando Vince ha iniziato a perdere colpi come Booker... eh... quando praticamente... hanno chiuso le altre compagnie... molto semplicemente... perché comunque è da lì che è iniziato... infatti The Rock... The Rock che gli hanno chiesto... se guarda l'AW... The Rock ha ragione... cioè comunque l'AW... può solo fare bene al business... in questo momento... soprattutto alla WWE... se... Vince ha voglia di rimettersi sotto... eh... il problema è quello... cioè... il problema... il problema non è tanto se Vince abbia voglia... il problema è che secondo me... proprio Vince... cosa fa Vince? no... Vince non ce la fa più... semplicemente... ha tante pussate... sì... è out touch... secondo me deve... esatto... cioè... c'è lui... lui... l'ho già fatto... l'ho già fatto... la persona in questo momento... che capisce meglio... quello... come sta andando il business... e come funziona il business... lo sappiamo tutti... tutti chi è... mh... perché comunque... facciamo un esempio stupido... lo stesso Eiman... sta dimostrando... in più di un'occasione... che forse... alcune cose che fa... sono anacronistiche... tipo... Eiman comunque... non è messo male... a livello di polso... sul... di polso diciamo... sul... su quello... riguardante quello che succede... ti ho detto... Vince McMahon... secondo me... eh... però ti dico questo... io... Vinso secondo me... io la roba... la roba che hanno fatto ieri con Shayna... l'ho odiata... ma quale... schifo... lo stanno veramente mettendo... ma quale... quella dove ha spaccato il braccio... il promo dove gli ha fatto la domanda... no... il promo... dove gli ha chiesto... cosa pensi di Ronda... che ha detto questa cosa... cosa pensi di Ronda... che ha detto che il resting è finto... e lei se n'è andata... e lei se n'è andata... credo che l'idea... di quel segmento fosse... gli ha fatto questa domanda... lei ha... diciamo... non voglio dire impazzita... però comunque ha... come posso dire... l'ha presa male... e ha asciutato sostanzialmente... nei confronti di... nei confronti di... di cosa... della Logan... credo che la loro idea sia un po' quella... sì ma non ha funzionato... non serve a niente... non serve a niente... è un personaggio che... ok... gli spacca il braccio a questa Jobber... perché alla fine è una Jobber... che poi... l'avevano già fatto... l'avevano già fatto con... come si dice... con Dakota Kai... senza dire niente di questo... che è finto... l'hanno fatto... l'hanno fatto due volte... l'hanno fatto due volte... sta roba già... sì ma Shane ha il suo act... lo famo... c'è stato... nel periodo in cui spaccava il braccio... solo per far paura... cosa cambia adesso da NXT... cioè spacca il braccio... perché Ronda dice che è finto... allora ti fa vedere che è vero... cioè... esatto... cioè non ho capito questa cosa qua... dell'usare questa cosa qua... che ha detto Ronda... a loro vantaggio... cosa aiuta poi nella file... tanto lo sai che... allora... il problema... il problema del wrestling è questo... lo sanno tutti che è finto il wrestling... perché lo sanno... lo sanno tutti... è una regola non scritta... è una cosa non scritta... vogliamo dire che non è finto... ok... è predeterminato... perché vabbè... alla fine è cornetto... secondo me... cioè... nel Brawl for All... la cosa che ha detto... giusta è... non è finto... è predeterminato... perché comunque... le mosse sono vere... le mosse si fanno... si quasi fa male... si diciamolo... i colpi sono... predeterminati... ma il risultato dei colpi... non è predeterminato... cioè... comunque... lo vedi anche in quello che è successo... al povero Droz... cioè... è... una mossa sbagliata... è quel povero... quel povero... comunque anche un tuffo... anche un tuffo all'esterno... anche se magari... tipo il tuffo di Ford... è stupido... è predeterminato... ma se si spacca la schiena... si spacca la schiena... chiedere alla parca... per conferme... cioè... non voglio... oh... ma a chiunque... ma a chiunque... esatto... per sé si infortunio stupido... trovo... io trovo che sia... tremendamente stupido... il... 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 cioè... fare un segmento... dove dici chiaramente... che il tuo prodotto è finto... cioè... c'è... stai dando... stai chiedendo... a una persona del tuo roster... cosa pensa... che un'altra persona ha detto... che sta roba è finta... dai credito a una roba che non serve... dai credito a una roba che non serve... perché poi tanto la polemica di Ronda... è... veramente... superflua... cioè... ma no... chi se ne frega... il fatto che tu puoi dare ambito... è sbagliato... ma non è una polemica... è un work quello di... quello di Ronda... cioè... è un work... però Ronda l'ha già fatto... una roba del genere... è un work per tornare... cioè... nessuno mi comincerà a raccontare... non serve a niente... a lei... perché tanto cosa ci può importare... l'ha già detto... poi a Shaina non aiuta... ok... Shaina spacca il braccio a Sarah Logan... l'ha già spaccato... mi dovrebbe intimorire... adesso spaccherà anche gli altri... mi sa... dovessi dire... sarà... ho capito... ma il risultato finale qual è? gli diamo il titolo... perché se non rivince ancora... cosa è servito fare... la domanda... ovviamente... cioè dirgli ok... tu non sei vera... o vince... o vince il Man in the Bank... vince il Man in the Bank... e poi con quello... con quello... perché è l'unica... è l'unica su cui hanno qualcosa... l'unica... io... cioè... l'una a cui potevi dare il Man in the Bank... era Bianca Belair... però le fai fare... la moglie... è troppo presto... è troppo presto... la moglie con la frusta... è troppo presto... che si ricorda di aver sposato un coglione... è troppo presto... è troppo presto... è appena arrivata... è appena arrivata... è troppo presto... dalle tempo un paio di mesi... dalle tempo un paio di mesi... che adesso... adesso la consolidano al fianco... al fianco degli street profit... poi allora... diciamo... la consoliderei per se stessa... non al fianco di quei due cretini... ma no... consolidare nel senso che... comunque intanto la fai vedere... la fai conoscere diciamo... ed è l'acta principale del gruppo... e poi diciamo... cominci a proporla poi in zone... sì... la trasformano... ora... è una bestemmia... voglio essere sì... non è che la fai diventare una China... però... la metti con un tech team poco serio... e va over... perché comunque è la più seria dei tre... che quello intendo... gli fai battere... che ne so... Naya Jax... e poi la mandi su... per quanto ovviamente... possa andare over in questo periodo... dove non c'è il pubblico... quindi comunque non hai la... sì... la vera... esatto... la cartina torna sole... diciamo... mettiamola così... sì... deve vincere... cioè deve... praticamente ti deve far dire... è il più per cui questi profits vanno bene... quando batterà... che ne so... ho detto Naya Jax... ma un top nome femminile... allora gli danno il push... potresti anche dare le monite... il senso... è assolutamente quello che penso... cioè comunque... hai pienamente ragione... sì... è quello che... è quello che penso... è quello che penso diciamo... quello che penso faranno... praticamente... mettiamola... è anche perché è arrivata ora... il main roster... che è sempre... è appena arrivata... è arrivata la settimana scorsa... alla fin fine... quindi... quindi... diamole il tempo... è troppo presto... sì vabbè... è però la seconda favorita... dietro scena... è proprio il Money in the Bank... perché... non lo fa... non lo fa... non lo fa... non lo fa il Money in the Bank... non lo fa lei... ma in the Bank... quelle di Role... le hai già tutte e tre... esatto... ah è vero... beh allora... vabbè... se sono... se sono effettivamente... cioè... tre... praticamente... tre... tre... alla fine... sì... penso sei... alla fine... mi sa che... mi sa che alla fine... saranno... saranno loro... praticamente... le tre... diciamo... le tre... le tre... che sono... le tre... che sono praticamente uscite... molto... molto semplicemente... stavo... no... stavo guardando una... una cosa per... per sto weekend... che non... che non riguarda... che non riguarda... stavo guardando... eh... praticamente... se c'è qualche emittente in Italia... che manda in onda... il... diciamo... il... il concertone... quello... One World... Together... Together... Tom... che... che... che comunque è stato... stato annunciato... con... con un mucchio di gente... che canterà da casa... c'era tipo... 70 persone... stavo... 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 stavo guardando... però per l'Italia... al momento non ci sono... diciamo... non ci sono... non ci sono al momento... emittenti... eh... emittenti... nel sito... quantomeno... poi magari c'è qualche emittente... che lo... che lo trasmetterà... però al momento... in Italia... non ci sono... non ci sono emittenti collegate... al momento... però comunque ci saranno gli stream... su YouTube... Twitch... e compagnia... e compagnia... e compagnia... otto ore dura sta roba? sì... porca torre... dura... inizia praticamente... dalle... inizia alle 20... e finisce alle 4... alle 4 del mattino finisce... quindi sono... sono... sono dieci ore... no... sono quattro... otto ore... otto ore... sono otto ore... sono otto ore di... eh... otto ore di... di concerto praticamente... vabbè... ma qualcuno le farà vedere... dai... in Italia non può... non c'è niente in Italia... dovrà più... dovrà più di WrestleMania... sì... ma penso che sarà più divertente... di... di... di WrestleMania... credo che ci sia... c'è il concerto del volo adesso... su Rai 1... chi se ne frega... aggiungerei... aggiungerei... energia... ci dà positività... chi se ne frega... aggiungerei anche... no... stavo guardando... c'è veramente chiunque... a... 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 non... 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 anche perché c'è chiunque... non molti... non molti act... diciamo... rock metal... dal mio... dal mio punto di vista... però comunque c'è... 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 ci mettono i top nomi... ci manca Marshmello... è tutto fatto... no... Marshmello non c'è effettivamente... c'è Michael Bublé... va bene... c'è Paul McCartney... c'è Paul McCartney... direi che... direi che... direi che da solo... da solo basti... francamente... eh... tornando a Raw di... di riserva... vabbè... iniziata la marzo d'avvicinamento verso Man in the Bank che è in programma domenica 10 maggio... come vedete... abbiamo... abbiamo... abbiamo lo spot della... della live reaction sul canale di... sul canale di Max da mezzanotte con il... con il... con il kick-off... abbiamo gli unici match annunciati per il momento sono i due... i due Man in the Bank praticamente... che sono... eh... sono... sono confermati a sei... stavo guardando adesso su... sul sito della... eh... sul sito della... è confermato... è confermato... eh... in questo momento a... eh... in questo momento a sei praticamente... o meglio... o meglio... hanno messo... hanno messo solo praticamente... eh... hanno messo solo praticamente le tre qualificate al momento si pensa siano a sei probabilmente... sarà così... comunque... al momento... al momento qualificate abbiamo Asuka, Shana Besser e Nia Jax per quanto riguarda... eh... per quanto riguarda il Man in the Bank per quanto riguarda... eh... per quanto riguarda... io non... non riesco mai a capire come mai mettere un gigante nel Man in the Bank che fa sempre schifo il gigante nel Man in the Bank ma... sì... ma però non si deve dire eh... però fa sempre effetto effettivamente il grande e grosso nel... nel Man in the Bank alla... devono fare lo spot del... eh... come faranno a battere la gigantesca che potrebbe vincere la sola non è tanto come... il come faranno a battere la gigantesca diciamo la domanda è come fa la gigantesca a scalare la... a scalare la scala praticamente cioè devi vedere la scala gigante di Biccio con la scala di Biccio esattamente esattamente con la scala di Biccio esattamente vediamo ah Biccio vediamo un pochettino cosa... vediamo un pochettino cosa... cosa si inventano da quel... diciamo da quel... da quel punto di vista rivolgo la scala di Biccio io... no io la... sai che la cosa... la cosa più divertente di Biccio io non l'ho mai trovata la scala ma la sedia gigante la sedia gigante mi ha sempre fatto... sì anch'io la sedia gigante mi ha sempre fatto... mi ha sempre fatto riderissimo di Biccio specialmente... perché fa più male chiedi a Shemus esatto è anche più difficile da usare francamente no tornando a... tornando a Rodi vabbè due match titolati probabili a quel po' oltre money in the bank sì Strowman Strowman contro Wyatt Strowman contro Wyatt e ci chiedevamo ci chiediamo chi vince praticamente questo match perché si sono di nuovo chiusi in un angolo praticamente con... a livello di... a livello di booking perché comunque se Strowman se Strowman lo fai perdere ha appena vinto il titolo quindi comunque un pochettino lo danneggio se perde però Wyatt allo stesso modo danneggia anche lui quindi comunque di riff o di raffa qualunque cosa qualcuno ne esce male allora ti dirò secondo me vince Wyatt anche secondo me vince Wyatt va detto per un semplice motivo comunque allora Strowman l'abbiamo detto in più di un'occasione Strowman perché è lì? perché? che ha bisogno di Big Show in realtà non ce l'han detto perché è lì comunque va bene andiamo avanti sì però te lo dico io allora hanno bisogno di Big Show di Big Show nel 98 sì più o meno essenzialmente 99 Strowman Strowman è Big Show nel 99 quindi cioè lui è lì solo perché non ha nessuno e ci hanno buttato dentro qualcuno perché non volevano dare il titolo perché non avevano nessuna volta a cui dare il titolo essenzialmente basta cioè non parlatevi non parlatevi sopra Matteo va avanti come Big Show l'ha perso praticamente subito contro Triple H perché l'ha perso dopo due mesi ma ricordiamoci che l'unica difesa titolata che ha avuto era contro Big Bossman in un match che è durato tre minuti in cui la faida era in cui la faida era quello non era tuo padre tu sei uno sport tuo padre è morto tuo padre è morto Godo sostanzialmente questo era tuo padre è morto Godo e tu sei un bastardo perché non era suo padre quello che è morto se ti ricordi nella faida esatto cioè può perderlo subito Strowman non ha Strowman è lì per una botta di culo ha vinto quel titolo ma alla fine a questo punto ridalla Wyatt se devi avere un campione forte se vuoi avere sai qual è il discorso più caro una virgoletta forte il discorso che ti posso fare più che altro è quest'altro ok diamo il titolo a Bray Wyatt poi con chi lo mandi il problema è sempre il solito discorso o glielo ridai o glielo ridai e vai avanti fino diciamo a Summerslam con come si chiama non mi viene la parola con se sta roba Roman ha detto che lui non torna anche secondo me non torna esatto il discorso vediamo come finisce sta cosa più che altro no Roman non torna per un po' di sicuro anche secondo me non torna tant'è che se guardate no ma comunque no ma se guardate gli show non lo nominano nemmeno non lo nominano più no ma non lo nominano perché tanto è meglio non nominare che nominare però sì esatto analiticamente Strowman è da lì perché nello spot mini event di SmackDown non c'era nessuno tolto Roman perché con tutto rispetto tolto Roman da Goldberg c'era solo Wyatt e comunque chiunque vince di questo match arriva nello stesso spot come ha detto prima Mattia nell'angolo ok lo dai un campione come Wyatt chi lo batte chi lo affronta per un po' è uguale Strowman lo tiene Strowman e chi gli mandi contro? Cesaro? la camura? ottima domanda a cui non credo a cui non credo di poter di dare rispetto è un'angolo chiunque vince boh se lo devono inventare l'avversario poi dopo che hanno finito fra di loro io col mio trash penso vinca il primo match Strowman solo per annungare il brodo perché non hanno niente anche secondo me vincerà cioè non lo so comunque in realtà in realtà non lo so in realtà non lo so penso vinca Wyatt però allo stesso modo comunque penso che vadano avanti sti due pegato per carenza d'alternative alla fin fine perché comunque quello c'hanno al massimo vuoi fare la merdata definitiva vuoi fare la merdata totale fai vincere come si dice dicevano 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 prima in chat finisce per squalifica finisce per squalifica vanno avanti esatto finisce in no contest o finisce per squalifica lo fai la pile se non vuoi far perdere subito Strowman ma alla fine cioè ripeto Strowman è lì e lì perché 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 ripeto Strowman è big show è big show nel 99 cioè ne più o ne meno è lì perché non c'era l'altro era l'unico midcarder di alto livello che avevano che non c'era niente era l'unico l'unico più o meno credibile che potevano infilarci dentro e hanno detto vabbè dai facciamo lui ma oggettivamente non no non si può dire scientificamente è una scelta fatta solo perché c'era poi non c'è motivo anche perché non l'hanno mai spiegato esatto io ultimo cioè il mio trash direbbe forza Strowman tutta la vita se è il nuovo big cioè ti amo però oggettivamente se non hai niente allunghi il brodo come fai bella domanda io porro del rapimento del demon giusto per portare a un risultato perché tanto questi due li devi tenere su non c'è nessuno non c'è veramente nessuno a Smackdown o porti qualcuno o ci sono loro due e me ne vengono e per il momento non c'è nessuno adesso perché c'è il money in the bank quindi comunque infatti già c'è il money in the bank i midcard te li mette tutti o quelli che vuoi pushare tutti in un match e poi Smackdown veramente tolto Wyatt Strowman e Roma che in questo momento facciamo un momento non esiste più e mentre Smackdown non c'è in questo momento sono quei due lì se li porteranno avanti per questo io penso lo rapisce lo porta nell'inferno dantesco non lo so però se comunque uno dei due vince tu pensa tu pensa se vince in realtà adesso che sei in questa situazione puoi fare se vuoi fare altri Firefly Fan House match puoi farli vero anche che dopo la prima volta che è stato molto figo la seconda volta rischi che già la gente inizia a dire ok basta te l'ho detto non so usi il concetto che questo è magico cerchi il modo per portarlo avanti perché comunque l'abbiamo detto prima sono nell'angolo chiunque vince se vince Strowman The Fiend ok ormai se vince Wyatt comunque il problema rimane che fa? ti immagini fare un cambio di titolo per il titolo WWE in un part per fare uno smash però non lo fanno Firefly per dire capisci? loro col concetto della magia possono magia intendo i trucchi tutte possono comunque provare è illogico però a tenere un pochino questa faida perché comunque se la finisci subito sono nell'angolo perché comunque ognuno dei vincitori non c'è nessuno cioè io ti posso tirare Brian ma perché voglio bene a quell'uomo ma Brian non è nei piani non è nei piani che vada per il Money in the Bank anche perché comunque è nei piani vada per il titolo WWE al match in qualificazione venerdì per il Money in the Bank sì esatto io ti ho detto il primo sfidante che puoi trovare io ho detto c'è uno che puoi mettere nel main event di SmackDown pian piano c'è solo lui se no io di altre persone in quel roster non le vedo perché comunque quelle poche che avevi o non ci sono non si menzionano o sono sti due sti due dovranno andare avanti ma vediamo già quando hai provato a fare un falso finale con il Finder è che ti sia venuta una gran generata e comunque stroman ha commentato bene le mattia e The Big Show nel 99 ci nominano ci perde che cambia ci nominano Shemus in chat su Youtube Shemus va contro Jeff Farley secondo me hanno già come hanno già abbastanza cominciato la cosa smettron venerdì che hanno bisogno comunque anche perché non è che possono spedirli subito nel Menevent dovranno costruirlo nel ritorno di Shemus gli danno Jeff Farley e ci sta ha fatto il match contro Shorty in realtà la voce che girava era che dopo Rest El Mania il primo sfidante di Roman sarebbe stato proprio Shemus quindi diciamo che se vogliono possono anche farlo in questo caso può fare Stromashimus in futuro però deve rimanere un campione face perché fare Wyatt contro Shemus non ha il minimo senso infatti turnarlo non avrebbe comunque senso Shemus da face non vogliamo non volete veramente lo Shemus face il bullo il bullo con la scarpa maglietta no assolutamente no guarda assolutamente no per quanto è irritante dai in funzione no infatti ma vediamo quelli sono purtroppo roster blu ha quei problemi lì diversamente da Raw farà di necessità virtù qua invece a Raw comunque hanno trovato una soluzione comunque buona per il titolo mondiale dicono Shemus maine l'hanno distrutto nel 2015 sì però è anche vero che comunque è rimasto fermo tanto quindi comunque ci montano sempre è stato diciamo è stata una benedizione quello per lui nel senso che comunque anche se avessero danneggiato anche averlo danneggiato dal punto di vista del booking comunque è sanato dal fatto che comunque è tornato praticamente da poco tanto che è fuori quanto è che è fuori teoricamente è stato fuori un anno un anno un anno poi ti riconto che l'hanno tenuto fuori l'hanno tenuto anche fuori con la storia dei come si dice dei non viene il termine con con i The Bar e tutto il resto è stato fuori una vita alla fine ed era comunque over come The Bar quindi cioè l'hack era l'hack era over quindi alla fine ma con lui ci hanno sempre puntato sì sì infatti ma alla fine il discorso diciamo che l'ha danneggiato nel 2015 parte il fatto che come giustamente ci dicono non so che ricorda nessuno questa cosa del 2015 ma poi il pubblico il pubblico il pubblico il pubblico all'attenzione diciamo di un pesce rosso quindi comunque alla fine sì ma poi chi se ne frega necessità virtù è scimus è comunque uno dei nomi giovani che si è un po' più stabilizzato negli anni quello hai lo dai sì 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 assolutamente assolutamente sì poi no vabbè torniamo a torniamo a Rodi torniamo a Rodi ieri sera torniamo a Rodi ieri sera allora McIntyre ha aperto la puntata sul ring praticamente con un suo promo è stato interrotto dall'arrivo dall'arrivo di Andrade sfida per il per il main event McIntyre contro Andrade in un diciamo champion vs champion match match praticamente campione campione contro campione che comunque alla fine non è stato non era neanche diciamo non era diciamo una bruttissima idea mettiamola mettiamola così cioè non è non era non era particolarmente innovativa ma poi l'hanno basato non era particolarmente innovativa intendiamoci però però comunque hanno comunque citato il loro passato che è una cosa che è una cosa che è una cosa che non fanno mai effettivamente quindi comunque esatto è una cosa è una cosa sicuramente potranno riprenderlo in futuro può anche starci ci sta ci sta ci sta tutto poi Asuka battuto Roby Riot per entrare nel Man in the Bank 13 minuti di match tra l'altro bello bello lunghino questo 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 match vittoria comunque abbastanza logica da parte di da parte di Asuka perché comunque alla fine con tutto il rispetto Asuka che va a Jobbar Roby Riot no non molto la ragazza che ha baciato Garza era la sua fidanzata cioè la pare che fosse la sua fidanzata no no togliamo il par togliamo il par era lei perché se guardi le immagini ha detto Ciccio tu non baci più le straniere sul tuo show che in un periodo di distanza di social distancing non è una grande idea praticamente farle baciare la prima che capita però diciamo cioè a livello di immagine visiva intendo poi dicessero esatto dicessero che comunque è la fidanzata diciamo che ci può non ci sono considerando come era prima della pandemia la sua gimmick è baciona esattamente mi piace lo sentire insieme a Garza Andrade secondo me ha poco senso di base a me ti ripiace di base quindi è un ottimo progetto l'idea è l'idea di metterli insieme a quei due là cioè insieme a Garza Andrade cioè effettivamente dei tre è quello che c'entra fa bene a tutti e tre come act intendo in teoria c'entra ma fa benissimo perché tanto Andrade viene da un anno dove è più fuori che dentro gli fa bene un po' di apparizioni Garza più va over meglio è cioè più fa e teori è comunque è arrivata all'improvviso ha una shot è funzionato con Murphy può funzionare anche con lui se lo mettono nel punto giusto al momento giusto è comunque per me è un ottimo progetto è più che altro più che altro devono bisogna capire non devo cioè se ci punta Eiman probabilmente su di lui ci punta perché comunque è uno dei pupilli di Gabe Eiman comunque non è stupido l'Evolve la guardava quindi diciamo che ci sono ha le carte in regola per fare bene con Eiman forse su quello per quello non ci sono dubbi è venuto su un po' troppo presto quello secondo me perché era lì perché era lì hanno detto vabbè lo teniamo no secondo me allora no secondo me il problema lì è successo che hanno avuto come si dice Andrade con l'infortunio non mi viene il termine hanno il problema è che qua hanno come si dice l'infortunio di Andrade innanzitutto l'infortunio di Andrade gli ha fatto dire qua dobbiamo dobbiamo trovare qualcuno e quello c'è Eiman ha detto Eiman ha detto vabbè datemi tiori che a me tiori piace penso che il ma comunque si è è impossibile che sia andata così effettivamente il discorso è vedere se effettivamente se effettivamente questa questa persona poi diciamo renderà perché comunque la WWE comunque è un diciamo un piccolo rischio comunque prendere comunque questa altenda che è comunque molto giovane che comunque ha la sua primissima esperienza diciamo ha in ambiti grani in una major e lanciarlo comunque dargli comunque una posizione una posizione importante mettiamo va visto però l'hanno messo comunque di fatto adesso diventerà la stable quel gruppo abbastanza diciamo che si vedrà un po' di più a Raw visto che comunque quella di Rollins è tra infortuni esatto c'è quella di Rollins c'è quella di Rollins che è un pochettino un pochettino bloccata effettivamente secondo me la mettono un po' da parte perché comunque questa Tolto Andrade che sappiamo che si ci puntano però puntano di più sugli altri due quindi è uno spot per i due con Andrade che comunque non fa schifo come leader e comunque questi due sono bravi parlo di Garza e Teori il problema di Teori è vediamolo comunque è una situazione difficile mi sembra se si è tirato su bene comunque parliamo conoscete più di me di uno che è arrivato quanto? un mese e mezzo nel main roster neanche ho sentieri nel main roster lui Teori no nel main roster c'è da due settimane praticamente non arriva neanche un mese è in NXT che era praticamente ha debuttato a inizio a fine anno è in NXT che ha debuttato a fine anno si esatto e stavano costruendo qualcosa vedi la faida con Breeze vediamo ha fatto solo la faida con Breeze faida è un po' una parola grossa vabbè gli hanno dato quel programma gli hanno dato quel programma il problema è che poi con tutto quello che è successo hanno dovuto chiuderlo sto programma perché secondo me cioè con Breeze mi pareva abbastanza evidente che Breeze doveva vincere il primo per fare la storyline del questo se la credo un po' troppo e poi Tiori che gli fa il culo una volta e la farebbe battuto tranquillamente assolutamente sì assolutamente sì vabbè vediamoli almeno il campione degli Stati Uniti si vede è l'unico cruce a rivedere quel titolo guardate talmente non pensavo neanche esistesse più pensavo all'inizio fosse il titolo pesi leggeri e mi sa che gli Stati Uniti mi sa che non sono convinto che lo rivedrà questo titolo in tempi in tempi in tempi brevi Umberto dove sei? è il tuo momento non credo sai? non so perché ho questa ho l'impressione che comunque non diciamo non sia il momento di Umberto Cagrido vabbè voglio vedere però può anche tenerlo andrade ha avuto sfiga può anche tenerlo tutta la vita però voglio vederli tutti e tre mi piacciono tutti e tre più con la Vega cioè mi sembra un act proprio fatto per potenziare al massimo le situazioni di tutti con ovviamente la Vega è vero che la Vega come giustamente dicono anche in chat la Vega è perfetta diciamo in quella in quella in quella dimensione lì può parlare per tutti e tre tranquillamente Garza può parlare per tutti e tre tranquillamente e lei può bastare scusami non ho capito scusami può parlare per tutti e tre cioè li può sostenere tornando a diciamo tornando a a a a a a a di ieri sera ho la domanda perché ad Alistair Black all'improvviso stanno cominciando a fare match lunghi che non è una cosa che non ok per riempire secondo me è perché devono perdere tempo e non so però non credo sia la scelta migliore per uno come lui alla fin fine cioè ho la sensazione che lo stiano devono decidere che facci che lo stiano che lo stiano un pochettino danneggiando facendo così devono decidere dove mandarlo settimana settimana scorsa il match il match interminabile con praticamente con come si chiama con Apollo con Apollo Cruz scusa un lottatore di grande qualità infatti anche ieri ha fatto grandi prestazioni beh mi pare che ci puntino su Apollo comunque adesso non l'avete visto non era quello che ha presentato i match ah quello era MVP è vero contando che non mettono dei match contro MVP e MVP gli ha fatto una gran gli ha fatto tanta pubblicità MVP comunque come ha detto ah quella merda che ha perso l'altra settimana me la prendo io eh sì è un modo è un modo da l'impressione comunque che su Apollo un minimo ci stiamo puntando adesso ma anche se non vince probabilmente perché non hanno nessun altro e va bene ma è per mettere del money in the bank alla fin fine e batte in VP tutta la vita con tutto rispetto certo però non avendo personale anche vedendo quello che gli hanno fatto fare la settimana scorsa l'impressione che ho è che loro adesso contando che lui abita in Florida e gli serve ci punteranno tra virgolette non è un puntarci perché comunque appena lo mandano contro qualcuno diciamo di come posso dire di medio grosso di decente esatto lo fanno perdere cioè non è un puntarci però è tempo prima non lo aveva adesso lo vedremo un po' di più però è io lo chiamo spot carriglio cioè lì lo mostri ci punti un gocciolino però meglio aver lui che di bisonti ecco meglio tutta la vita Apollo Cruz e su Blackbow io non ho neanche idea cosa gli vogliono far fare parte Money in the Bank che non penso che vincerà io in questo momento non vedo un vincitore il Money in the Bank nei 3 di Raw il più papabile è lui però come in questo momento io non so cosa gli fai fare non so ok gli dai il Money in the Bank e poi è tutto lì comunque se lo vincessero wow cioè veramente tanti dubbi hanno dubbi perché comunque quanto è tanto che fa sti match Owens Owens non l'hanno nominato può benissimo essere che Owens non ci sia ragazzi che vi dite che c'è Apollo nel Money in the Bank e non Owens magari Owens non può venire boh non si occupiamo da ora in poi saperemo più o meno lui aveva detto a prima scorsa che comunque voleva voleva fare dico il Money in the Bank quindi o sarà 8 il Money in the Bank e se lo gioca gira voce che c'è 6 6 6 la voce che gira è che c'è 6 sul sito della WB non mettono quanti sono quindi può essere può essere penso 6 torna meglio intanto sul sul mio monitor in questo momento ho un Ignor House 97 ah Canedia Stampede quindi è un è un buon bello sono già Undertaker e Vader quindi mi sa che sono abbastanza avanti diciamo beh non è il Main Event no non è il Main Event Main Event e poi il match il match del match a squadra boh al tavolo di commento ho detto che sarà 6 ok perfetto allora i tre match di qualificazione serviranno praticamente per boh che ne so ma che c'è non può venire magari hanno cambiato i piani perché non può venire magari non può venire o fanno boh fanno qualcosa con o lo stanno a rendi o magari o magari costa il titolo a Rollins diciamo a a Man in the Bank e continua no ma lì è finita credo penso eh non so mica sai non so mica se è finita sai può essere che facciano anche qualcosa con Murphy comunque contro Mysterio settimana prossima vero vero anche questo vero anche questo sì anche quello assolutamente ma io mi tengo anche Randy anche Randy Owens giusto per tenerlo a livello al secondo piano però di importanza a Raw appena dietro il mini event è titolato di mettere lui penso sia quella l'idea in questo momento mi danno l'impressione che non sappiano cosa farci ottimo restare ma è da un anno che vince quasi tutti i match singoli ma non gli fanno fare nulla di importante sì l'abbiamo detto anche noi non c'hanno la porta non hanno idea non hanno assolutamente idea su cioè mi danno l'idea di cioè l'ho già detto in altre occasioni mi dà l'idea di esserci uno scontro a livello diciamo di idee nel senso Eiman vorrebbe farci qualcosa ma Vince no a parte la porta cosa gli ha dato di il suo personaggio che ha cioè a parte quella entrata la musica demoniaca e la porta non ha fatto niente ha fatto la faglia con me fermi tutti che ho letto una cosa meravigliosa un attimo che apro che apro il sito un attimo che apro il sito perché c'è c'è uno sviluppo interessante relativamente ai taping ai taping della WWE di ieri perché dimmi che dimmi che ha fatto vincere al governatore di Orlando il 24-7 title per ringraziare no 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 è molto più molto più molto più divertente praticamente la cosa praticamente praticamente la situazione la situazione è diventata a un certo punto è diventata grottesca ieri perché come ci informa come ci informa fightful.com che è il sito di di c'è un rossetto e lui le sale praticamente in diverse occasioni nella giornata nella giornata di ieri un attimo che adesso apro il capo il sito e così ve lo faccio vedere praticamente si è presentato lo sceriffo di Orange County al Performance Center ieri e a dire no dovete smetterla perché non siete in regola praticamente tutto questo finché non è arrivata diciamo l'ordinanza il certificato esatto da parte del governatore della Florida e dice no 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 sono a posto e roba essenziale lasciatevi no 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 io voglio Vince c'è il certificato col certificato sulla mano non ci potete chiudere certificato praticamente l'emittente Spectrum News 13 e Spectrum Sports 360 di Orlando praticamente ha detto che lo sceriffo di Orange County è stato chiamato più volte praticamente al Performance Center nella giornata di lunedì ha detto alla WWE guardate non siete in regola praticamente con con l'ordine esecutivo che praticamente dovete stare a casa dovete fermarvi dovete chiudere i taping e poi praticamente è arrivata più avanti nella giornata è arrivato praticamente l'ordine da parte cioè comunque è arrivata la diciamo la come posso dire la chiamata del maestro come col faceva Guzzanti tu sai chi è tu sai chi sono esattamente e tra l'altro dice lo stesso lo stesso giornalista sempre citando citando praticamente Spectrum di Orlando che dice che non è la prima volta che capita una cosa di questo tipo cioè praticamente lo sceriffo di Guzzanti è stato chiamato più volte al Performance Center nelle ultime settimane a controllare le cose e a dire tra l'altro che la compagnia non era in regola sostanzialmente però nella giornata di ieri è dovuto andare a quel punto gli hanno mostrato praticamente l'ordine esecutivo del governatore della Florida dicendo che loro possono tranquillamente andare avanti immaginiamoci la vecchietta che chiama pronto sceriffo ci sono i baldi giovani che danzano e si picchiano questo che parte col classico cinturone da sceriffo sono in televisione quindi non credo che sia necessaria la vecchietta vabbè ok qualcuno che chiama dice ma questi che ho a 100 metri che fanno che passano tutte ste macchine era Cody Rhodes era Cody Rhodes sotto mentite spoglie non diremmo non diremmo non diremmo chi ha fatto questa denuncia ti can buondi 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 Cody Cody è lei in quella palestra c'è qualcuno che lo ha tazzozo faccia faccia fai l'accento svedese Cody buondi Cody è lei signor Rhodes cosa vuole signor Rhodes cosa vuole cioè questa arriva uè giovani adesso mi avete rotto le palle sceriffate chiudete non diremmo chi ha fatto questa denuncia lo chiameremo solo t can volevo dire Tony K anzi no t can vabbè Gengis Khan Tony no tra l'altro loro possono andare in diretta e noi no no tra l'altro infatti a questo punto vediamo se la se la IW tra un mesetto circa no in diretta non lo so registeranno no allora adesso si finiranno i tapings no ma secondo me non andranno in diretta più che altro perché comunque cioè perché comunque se a TNT va bene non andare in diretta non c'è motivo ma hanno tanto roster fuori poi comunque non gli serve tanto per loro ok però nel momento non è che gli conviene non hanno non hanno incentivo mettiamola così mettiamola così non hanno per farlo andare in diretta finiranno i tapings sicuramente faranno un'altra sessione di tapings adesso staranno chiamando quello sì la sessione di tapings è un altro discorso vediamo la sessione di tapings la fanno poi vediamo vediamo che cosa fanno se fanno se fanno una sessione di tapings oppure decidono di andare in onda assolutamente assolutamente vediamo cosa vediamo cosa cosa faranno ripeto se a tnt va bene il diciamo il continuare ad avere lo show comunque registrato perché tanto alla fine non cambia niente live registrato non cambia assolutamente nulla se non escono i risultati no ma poi se non escono i risultati non cambia assolutamente nulla live registrato comunque è cosa nuova alla fin fine non cambia non cambia veramente niente al network e alla compagnia se non c'è lo spoiler va bene esattamente cioè che poi alla fine la storia dei dati di ascolto per quanto riguarda il wrestling ci insegna che live registrato non vuol dire assolutamente niente nella storia degli ultimi anni non vuol dire assolutamente nulla ma lo sta venendo già verso live registrato non vuol dire assolutamente nulla ma è uguale ma ci possono ti mettere dei rock nei dubbi però se vedi l'arena vuota e non c'è nulla è quello è quello il discorso il prodotto è quello è quello il vero problema il vero problema è il format cioè comunque il fatto che comunque il wrestling senza pubblico non tira ed è comunque ed è comunque brutto da vedere quindi comunque il pubblico il pubblico va via semplicemente il pubblico si è visto da noia o si depriva non gli interessa infatti come ci dicono giustamente su twitch la dimostrazione è che live live registrato non vuol dire nulla e il rating di oggi cioè comunque la puntata di ieri era praticamente indiretta e hanno fatto l'ascolto più basso degli ultimi vent'anni quindi non è quello il problema il problema è il format cioè il problema è il fatto che comunque non c'è il pubblico comunque io voglio la faida adesso voglio la faida voglio che torni The Mountie contro lo sceriffo di Orecchiatti bisogna andare in Canada per quello quando andranno fare la puntata speciale di Raw a casa di Brock Lesnar in Canada allora vediamo che succede fanno il seguito con The Mountie che picca lo sceriffo il vero problema poi tra l'altro di questa intera situazione per quanto riguarda la WWE è che a forza di viaggiare questi qua adesso viaggeranno tre volte a settimana cioè non tutti ovviamente però comunque ci sarà per tre volte a settimana ci saranno ci sarà gente che prenderà l'aereo per venire al performance center è vero che magari da altri stati cioè movimenti da altri stati praticamente degli Stati Uniti perché comunque per lavoro bisogna spostarsi ora noi sappiamo cosa sono gli aeroporti praticamente cioè chi ci garantisce che non succederà nulla a livello di nuovi contagi con il coronavirus perché qui questa situazione è molto rischiosa un conto è tenere tutti confinati in un posto solo per diverse settimane e lì puoi cercare comunque di limitare la situazione chiaro come ha fatto dei W con l'albergo a Jackson questo si sposta da altre parti degli Stati Uniti cioè ci rendiamo conto del rischio sanitario che comunque sta correndo in questo momento la W con questa scelta di fare tre taping a settimana in diretta o in quasi diretta mettiamola così considera anche a livello sociale cioè questi si sono praticamente hanno trovato l'inghippo di dire siamo lavoratori indispensabili ho capito dall'alto 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 di cosa nessuno l'ha capito perché anche la BBC ma in quello già quello l'impatto sociale in questo momento anche la BBC la BBC ha fatto un pezzo oggi dove praticamente scusate il termine ha cagato letteralmente su questa cosa cioè il tipo ma come la WWE ritenuta essenziale allo stato della Florida ma stiamo scherzando cioè il tono il tono dell'articolo era quello ora ma scusa allora la California che è piena di gente che fa TikTok e quelle robe lì che gli dovrebbe dire eh non siete essenziali però c'è il fatto è questo il fatto è questo non è solo la WWE perché comunque è detto che c'è anche il baseball e altri sport sono essenziali però in questo momento è solo la WWE cioè poi vediamo tra qualche settimana cosa succede gli altri però hanno detto potreste rientrare qui stiamo parlando di voi potete ci dare io sono particolarmente convinto che questa cosa l'abbiamo fatta anche principalmente per il baseball cioè comunque per dare la possibilità di giocare la stagione delle major league in Florida perché comunque in Florida ci sono tantissimi campi dove si fanno normalmente lo cosiddetto sprint training che sono praticamente le amiche avanti per stagione sono ovviamente non sono stadi grossi naturalmente sono stadi piccolini da 5, 6, 7, 8 mila persone che comunque tanto puoi tenere chiusi puoi tenere chiusi e giocare a porte chiuse tranquillamente e non ci sono problemi pare che oggi cioè sentivo leggevo oggi prima di iniziare la diretta le dichiarazioni dei vari commission o comunque dei vari responsabili delle major league e sembra comunque non esserci grande convinzione nel fare diciamo nel cominciare comunque a giocare nel cominciare comunque a giocare anche a porte chiuse in campi di questo tipo perché comunque non ce ne vogliono perché comunque non riescono ad avere perché è vero che il baseball non è un grande sport di contatto però comunque vogliono stare tranquilli cioè comunque il baseball è forse uno degli sport meno di contatti credo che meglio di quello c'è solamente il tennis cioè diciamo comunque il tennis è uno sport dove il contatto è praticamente nullo e il tennis non gioca cioè rendiamoci conto della situazione c'è la Davida B dove comunque ci sono omoni grandi e grossi sudati che comunque non condividono saliva però comunque sputazzano anche hanno contatto esatto che hanno contatto condividono anche sudore loro possono fare il tennis dove non c'è alcun contatto tra i giocatori a meno che non ci sia il doppio ok però nel singolare non c'è alcun tipo di contatto non gioca sono fermi sono fermi e giustamente sono anche sono anche fermi ma perché perdono soldi il tennis è giusto ha detto perdiamo soldi e facciamo le partite al vuoto i primi del mondo ovviamente perdono pochi soldi però pensiamo anche ai numeri 200-300 del mondo non voglio dire vanno sull'astrico però comunque quasi perché comunque i giocatori che sono al 200-300 del mondo non prendono centinaia di miliardi di euro prendono quando va bene quando arrivano a un diciamo sedicesimo di finale di un grande torneo 2.000-3.000 euro quindi comunque non prendono delle grandi somme onestamente tra assicurazione e tutto fa in fretta non andare via che è uguale ma che prodotto che prodotto è cioè non vendi nulla sono due che giocano a tennis nel silenzio esatto poi chiaro che quanto puoi durare solitamente sempre nel silenzio sai cosa non avresti persone che dicono tra un punto e l'altro tra un punto e l'altro non c'è il silenzio ok però fai conto devi portare poco personale poi anche lì probabilmente il tennis ha detto visivamente sai cosa sai qual è il problema principalmente diciamo del tennis è vero che non c'è contatto però comunque devi condividere gli spogliatoi comunque è un rischio lo staff le telecatture cioè c'è gente comunque anche se metti due a giocare ci vuole uno staff anche lì lo staff porta via dei posti comunque io condivido quello che ha detto l'ATP ok noi facciamo giocare anche due perché tanto non condivido il sudore ma visivamente a livello televisivo la gente lo guarda no anche lì ti deprime vedi due che fanno pum 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 per tre ore però ti ripeto cioè comunque il tennis di base come gioco in sé comunque non è che ha bisogno del pubblico perché a parte gli appesi quando fanno un punto un set il senso il senso di scusa che stiamo facendo è il tennis e lo sport che rischia di meno paralossalmente rispetto per esempio al calcio rispetto al basket rispetto al dressing ovviamente rispetto a tutti gli altri sport eppure son fermi eppure son fermi cioè da mesi anche per l'altro perché è un rischio è un rischio sanitario anche per loro mentre il dressing se ne sbatta il cazzo il rischio sanitario è di soldi esatto non vogliono perderci lo sanno il dressing in generale se ne sbatta il cazzo l'unica compagnia che sta veramente facendo le cose come Dio comanda è la New Japan se andiamo a vedere perché comunque la New Japan è ferma è ferma è ferma è ferma e vabbè anche la ringovonore è vero anche la ringovonore e anche la meldaw è anche la meldaw è anche la meldaw è anche la meldaw le IW probabilmente vedendo come hanno agito adesso se avessero avuto la possibilità se non avessero tutti questi taping e questa cosa del lavoro essenziale veniva fuori prima continuavano a lavorare tranquillamente probabilmente registravano però comunque avrebbero continuato probabilmente non registravano vediamo tra un mese vediamo tra un mese se decidono di tornare possono anche ritornare probabilmente a fare dei taping io fossi in loro non tornerei comunque in diretta perché comunque è troppo un rischio cioè è troppo un rischio comunque viaggiare ogni settimana viaggi una volta ogni mese mese e mezzo limiti al massimo la situazione e comunque puoi comunque andare in quarantena poi per un mese praticamente e stare tra virgolette tranquillo comunque adesso sai che comunque per andare in Florida per quanto riguarda il wrestling il tuo lavoro è essenziale quindi non ti dovrebbero rompere le palle assolutamente assolutamente cioè quindi possono possono benissimo portarsi tutto il roster assolutamente assolutamente adesso beh no tutto il roster no perché comunque perché comunque ci sono limitazioni nei viaggi soprattutto ci sono comunque non so per da fuori non riescono a portarli tutti in tempo cioè a parte quello ma poi comunque comunque certi stati se tu ti arrivi in aero probabilmente devi poi andare comunque in quarantena quindi comunque è un casino probabilmente non tutti possono sì dalla California dalla zona di New York anche se tu arrivi devi stanzare da alcuni stati da alcuni stati diciamo adesso vediamo che vediamo che succede per i due più grandi esatto i due contagiati è una situazione in costante evoluzione anche quella ripeto sì però a livello sociale secondo me che la Florida abbia deciso questo è ridicolo è assolutamente ridicolo sì ma a livello di contagi ed è una mossa ed è una mossa esclusivamente politica perché comunque è una mossa che perché hanno fatto questa mossa perché comunque il governatore della Florida è un repubblicano e Ron DeSantis che vuole assolutamente che va assolutamente dietro quello che dice Donald Trump Donald Trump vuole far ripartire tutto tant'è che in Florida si sta parlando di riprende scuole addirittura secondo me è una follia però si sta parlando addirittura di riprende scuole a maggio quindi che la Florida punta come dire ha cancellato tutti gli eventi ha perso la stagione turistica ha perso un sacco di soldi e il governatore come dice tanto hanno chiuso hanno chiuso ristarte di economy hanno perso la stagione turistica mica tanto ci sono le spiagge aperte in Florida cioè non so quanto si ma nel senso hanno perso i grandi eventi e quello comunque loro qualcosa ci perdono loro non vogliono perderci talmente tanto che hanno detto oh per ristarte di economy se il wrestling è qui e siamo il fulcro teniamo aperto cioè il prossimo il prossimo la prossima non è la IW la prossima è la IW sì probabilmente andare in Florida dove si io so sei sicuro c'è già Zana White che aveva lasciato tipo 80 messaggi in segreteria ehi amico sono Zana White allora quando arriviamo è probabile è probabile e lottano a Miami guarda sulla spiaggia fanno Bash and the Beach o UFC vediamo un po' vediamo un pochettino poi parlando anche di cosa politica ricordiamo che c'è il super pack guidato guidato da diciamo da Linda McMahon che è finalizzato alla redazione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti che ha promesso 20 milioni di dollari di investimenti nella Florida che sono sicuro diciamo hanno aiutato probabilmente ad arrivare diciamo a un ah tu dici come lo sceliffo di Nottingham che prende il secchio di denaro e dice sì questa legge contro Robin Hood la faremo grazie dei soldi può essere non escludo che possa essere che possa essere così rispondiamo alla domanda dopo di Italian Wrestling ci chiedono qual è la figuraccia più grande che avete fatto quando avete incontrato un wrestler quella di Bayley non conta che non ricordo neanche francamente neanche io ricordo una figuraccia con Bayley figuraccia con Bayley francamente però no figuraccia non lo posso dire non c'entra con il wrestling europeo figuraccia con wrestler non mi pare di averne fatta perché non incontrano talmente pochi che non ho diciamo grandi ma io ricordo che quando abbiamo incontrato le bella le bellas tipo ci impappinavamo e non riuscivamo a parlare diciamo che c'è stato uno di noi che ha dato particolarmente ha dato particolarmente meglio Fabio Fabio aveva fatto la scenata però io intendevo cioè io per dire quando quando sono arrivato davanti a che mi sarebbe piaciuto dirle tipo sono un spero spero che tuo marito si riprenda così via quando le sono arrivato davanti la mia risposta è poi loro state molto tranquilli alla mano e comunque ci siamo sono assolutamente gentilissime state gentilissime in quell'occasione la cosa non ci impedisce di continuare a massacrarle sull'ottato però a livello umano a livello di persone assolutamente a livello umano state molto gentili io mi ricordo ancora Neville quando gli hai fatto l'inchino Neville il primo avergli fatto l'inchino sono stato io e lui si è fermato a dire lui ha capito come si ragiona lui ha capito tutto esatto la cosa non è figuraccia però la cosa che ci ha fatto più ridere praticamente di Neville è che comunque era in gimmick aveva girato Hill praticamente ed era King Neville ed era totalmente in gimmick era proprio completamente scazzato più che scazzato era proprio arrabbiato io tipo mi sono inchinato gli ho detto tutti all'inizio facevano la foto e tranquillamente toccato a me io mi sono inchinato gli ho fatto Your Majesty e lui tipo ha detto questo ha capito come ci si può comportare esattamente tornando a tornando a noi tornando a Rodi ieri sera Sarah Logan ha perso il match anche se il ring announcer non gli ha dato il match ha fatto un errore perché lì non avevo capito che cazzo stava succedendo è semplice ha sbagliato ha sbagliato e Shane Abesser ha vinto ha vinto cioè Sarah Logan ha perso il match e ha anche un braccio praticamente ha perso il match perché erano tutti conciati come dei cowboy durante Canadian Stampede non me lo avevo completamente completamente rimosso questo perché facciano i Redneck americani ah ok perfetto perché c'era c'era anche Vince McMahon ha conciato come un imbecille al tavolo di commento aveva aveva diciamo tutto il cappello cioè il premier dell'Alberta praticamente aveva aveva praticamente anche il cappello stanno presentando Stu Ellen Art sta per entrare credo l'Art Foundation sì ma l'act cowboy più bello è quello di Survivor Series con Chuck Norris quello fu il Survivor Series più cowboy di sempre ah beh cazzo sì poi Austin Theory contro Kira Tozawa discreto discreto come match perché altro un modo per diciamo per ulteriormente per andare mandare over Theory esattamente esattamente Austin Theory affronterà la settimana prossima la lista Alistair Black esatto Alistair Black ha intervistato in precedenza ha dato la risposta più bella che poteva dare qual è il tuo piano per la settimana prossima per affrontare per affrontare Austin Theory cercare di vincere questa è stata la risposta di Alistair Black straight to the point man no qual è il tuo piano per battere Austin Theory my plan is to win vincere forse my plan is to win il mio piano è vincere my plan vabbè d'altra parte hanno mandato avanti la Shreiber a fare le domande la Shreiber è quella che mandano sempre avanti quando ci sono a fare le domande idiote se ci fate sì io non so se l'hai notato poi che finalmente le hanno messo il nome la targhetta col nome sì esatto esattamente non gliela mettevano mai è vero si può sedere al tavolo con i grani a fare la pappa praticamente esatto e prima faceva le interviste quando le hanno messo la roba ho detto oh mio dio ce l'hanno fatta finalmente ce l'ha fatta brava brava Sara brava Sara brava Sara te la sei meritata finalmente la pacchetta sulla spalla tra l'altro la WWE ha un esercito diciamo di nuovi di nuovi elementi che stanno provando nei diciamo negli show negli show minori c'è tipo quella che sta conducendo this week che fa anche WWE bottom line nei mercati internazionali c'è Mackenzie Mitchell che fa che fa i segmenti di WWE che tra l'altro è un ex TNA cioè comunque le viene da Impact faceva l'intervistrice a Impact diversi anni fa adesso lavora per la WWE quindi non escludo che comunque questa formazione possa avere degli inserimenti diciamo negli show principali perché adesso le tre principali sono la Carluso Kyla Braxton e Sara Schreiber le tre che hanno nello show nello show teviso principale vediamo cosa se qualcuno magari vediamo che ci fanno esatto Angel Garza contro Tehuti Miles chiunque gli sia Vittoria molto non conoscete Tehuti Miles no assolutamente un lotatore incredibile credo che sia credo che sia credo che sia uno di NXT non vorrei dire una penseria però mi sa che non è uno di NXT è NXT cioè lui è il concetto allora lui ha fatto il jobber per un match contro Killian Dain esattamente due settimane fa a NXT il 25 marzo per essere precisi ma è comunque l'acte più bello di NXT c'è poco da dire tolti gli indiani ma quel è marchismo aspetta un secondo che stavo verificando una cosa scusate scusate un secondo stavo verificando quanti anni ha era conosciuto come Elijah King che onestamente non ricordo guarda quando hai detto l'agio mi è venuto un sussulto di ricordo poi hai detto King si comunque è uno di NXT è comunque uno che viene al territorio di sviluppo poi tornando a noi Nia Jax ha battuto Carrie Sane in due minuti e mezzo uno squash totale per la povera per la povera Carrie Sane non riesco a formulare delle frasi in generale perché sono persone idiota per esprimere il disdegno di questo match dicevi scusa? no per il disdegno di questo match non so esprimere formule italiane non cioè lo squash eh oh che ce vuoi fare? no la equozzo nananana nananana è tornata diciamo altrimenti qua ci puntano sulla Jax sì dannatamente dannatamente evidente abbiamo tutto quello che non mi piace in una resta femmina però purtroppo oh che ce vuoi fare? grosse ciula abbiamo tra l'altro tra l'altro un momento backstage con Asuka che tenta di consolare Carrie Sane possiamo chiaro mandarlo in onda no Non C'è un ROM! Oh E C'è 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 Ma ci rendiamo conto che le migliori promo le fanno due persone che non parlano americano? No qui poi è anche bello, a un po' ti passo il video perché c'è praticamente la Sein che sta piangendo e a un certo punto si vede chiaramente che inizia a ridere, quindi Il momento migliore di ieri di Raw è assolutamente quando si sono entrate, quando hanno fatto L'intervista con la Schreiber o con la Caruso, non mi ricordo chi era delle due, che sono Arrivate cantando la loro team song Il momento più bello dell'intera puntata è Asuka che balla la team song di Ruby Riot, è È stato il momento secondo me più alto dell'intera puntata secondo me ieri sera, vai Maka, grande Asuka dice, tu avere perso, tu avere onore, tu forte Sì, è al quanto razzista quello che stai facendo, Gerry the King, Gerry the King, Gianluca the King Lawler, è abbastanza razzista quello che stai facendo No, la John Sting è molto anche Ecco, vogliamo, cioè, comunque, posso Ma sono fantastico Sai cosa non mi è assolutamente mancato in queste settimane? Le battute razziste di Lawler? Ma tutto di Lawler, tutto, tutto Fossero solo le battute razziste Sì, anche, sì, anche i suoi Oh my god! Oh! Yeah! È veramente, allora Prima di tutto, una cosa che non riesco a capire di Lawler è Ma lo fa? Perché vuole fare il giovane? O perché è semplicemente un razzista? No, allora, io non credo che sia un razzista, però E poi dovresti No, no, ti spiego Vuole fare il simpatico? No, 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 è la stessa situazione di Cornetto Cioè, comunque, sono Parliamo, comunque, di una persona che ha più di 70 anni Alla fin fine Ah, che mi rivela Che non capisce Che non capisce che certe cose che lui diceva 20 anni fa non vanno più bene Adesso Molto Vabbè, vittima del suo personaggio Cioè, non cambia Dice, oh, io sono questo E rimango questo Anche Cornette Anche Cornette non è un razzista Perché Cornette Cornette va contro Donald Trump Quindi non credo che sia Non credo che sia razzista Eplicemente E' convinto E' convinto Diciamo che comunque Queste qua siano battute Non capisce che siamo nel 2020 E certe cose Che dicevi 20 anni fa O 30 anni fa O 40 anni fa Non vanno più bene Perché comunque C'è un'altra sensibilità C'è un altro mondo Semplicemente Quello che Però Eric Eric Però Loller vota Trump C'è la differenza di Ma ok Ma non credo Ma ripeto Non credo che sia Razzista Semplicemente Sono Sono lui che cerca di fare Il color commentato Come l'ha sempre fatto Cioè lui Diciamo Nel 97 Diede Diede un promo De ricchione A Goldust Nel senso letterale del termine Madonna Indiretta Cioè Semplicemente È convinto Che le cose Io credo che sia C'è lui che tenta di fare Simpatico Tenta di fare la battuta Da commentatore Similil E non capisce Che comunque Sono battute Che nel 97 98 99 Potevano anche andare bene Perché comunque C'era un'altra sensibilità E comunque Adesso non va bene Adesso non va più bene Io non credo sia razzista Lui Però Non è la prima volta Che dice delle cose Di questo tipo Quindi Dal backstage Dal backstage Qualcuno dovrebbe dire Guarda Ciccio Non è il caso Non è assolutamente il caso Perché Perché È un altro mondo È un altro mondo Semplicemente Dicono Politiche coreane Ha rovinato tutto Non sono d'accordo Semplicemente Meno male Che comunque C'è questa sensibilità Alla fin fine Cioè Alla fine È anche giusto È anche giusto È una questione ragazzi Esatto Cioè comunque È una questione È una questione Più che Politically Più che Politically Correct È cambiato Bisogna Quando si fanno Come ha fatto Ora prima Il giapponese È razzista Bisogna Far capire il contesto Non si può fare La battuta E dire Mi avete capito Perché non funziona più Perché come fa Loller Può fare la battuta E dirti Sono simpatico Sono giovane Ma trovi uno Che non è simpatico Che dice No tu mi stai insultando Sei un razzista Esatto Come fa Loller E come ha fatto altri Giustamente ci dicono Comunque rendiamoci conto Che comunque negli Stati Uniti Il razzismo è un programma molto serio Cioè Esatto Cioè Non è che In America Cioè La guerra civile Cioè comunque La schiavitù È finita In America La schiavitù dei neri È finita 100-150 anni fa Non è finita Mille anni fa Cioè È ancora finita È ancora finita Negli Stati del Sud In America Vieni picchiato Perché sei nero Sì Ok In America Non è esattamente così In America In alcuni stati Ti fermano Ti fermano Ti fermano Con la macchina Se tu stai andando giro Tranquillamente in macchina Ti fermano Se sei nero Perché pensano Che tu l'hai rubata Non è esattamente così C'è una Sicuramente C'è una Tra virgolette Sensibilità maggiore Delle forze di polizia Relativamente alle persone di colore Rispetto alle persone La behavior Quello è sicuramente vero Il cosiddetto White privilege Sicuramente Questo sicuramente Non lo ho detto Non lo ho detto In dubbio Sto dicendo Che comunque Negli stati del sud La segregazione Comunque Il razzismo Lo schiavitù E tutto il resto È ancora una ferita Molto fresca Molto molto fresca Cioè Le statue Le statue Dei Dei generali sudisti Negli stati del sud Le hanno tolte Due anni fa Non le hanno tolte Cento anni fa Cioè Negli stati del sud In molti stati del sud Ci sono ancora Le strade E le statue Dedicate ai generali sudisti Generali lì E tutto il resto Che era la gente Che i neri Sostanzialmente Voleva vedere gli schiavi Quindi C'è Il razzismo In America È ancora un problema Grosso È un problema Enorme Praticamente Ma sì Ma basta Le rivolte di Cleveland Di Memphis Di Los Angeles Sono del ventunesimo secolo Non del sessato Ci sto state Come ha detto bene Mattia C'è un different behavior Cioè Tu sai dire Guidi Il poliziotto Ti può dire Uè fermati Cioè Rosa Parks Negli anni 50 60 Negli anni 60 Negli anni 60 Non è Non è cent'anni fa È 40 È 50 anni fa Più o meno Hanno più Hanno più Hanno meno Cioè È una ferita Molto fresca Negli Stati Uniti Il movimento Dei diritti civili È una Diciamo Il movimento Dei diritti civili È una cosa Di anni 70 Sostanzialmente In America Fino agli anni 70 C'erano I posti dove i neri Non potevano andare In America Quindi Rendiamoci anche conto Il contesto È molto importante Il contesto È molto importante Non solo Poi comunque In America C'è sempre La famosa Colonna bianca Come ha detto bene Mattia Ci sono Forze di polizia Politici Persone anche comuni Che se vedono Un ragazzo di colore Che cammina Che ne so Ho detto A Hollywood Se lo vedono In una stradina Il poliziotto Esce e si incazza Gli spara Perché lui Ragiona È nero È cosiddetto Privilegio bianco Cioè il fatto Che comunque Sei nero Sempre fa sul ladro E comunque Cioè il privilegio bianco Più che altro È il discorso Che comunque Stereotipo No attenzione Il privilegio bianco È comunque Il fatto che Comunque Un bianco Per esempio A livello scolastico Ha molte più probabilità Di avere successo O comunque Di avere più soldi Di andare in una scuola Buona Esatto Rispetto Esatto Rispetto a un nero Che comunque È ancora Molto presente Purtroppo In tante città Anche nelle più civilizzate In tante città Non solo a sud Esattamente Chicago per esempio Per fare Crive dal Chicago Memphis Los Angeles New York Sono successi Nel ventunesimo secolo Stiamo parlando Quindi È cambiata La benevolenza Su queste cose Cioè tu puoi fare Simpatico alla Lawler Però Trovi uno che ti picchia Ti dice Oè Mio padre Ci è morto Per queste cose E tu E lui non lo capisce Non lo capisce Chi fa le battute Preso Lawler Però Può essere Cornette Quando fece quella battuta A N.W. Power Che lui ti può dire È una battuta simpatica Capito Ma È Basta Quando noi Come giustamente ci dico Per farsi un'idea Della situazione Negli Stati del Sud Vi invito a vedere La puntata di Top Gear In cui gira in Alabama Quando noi diciamo Che in Alabama In Alabama West Virginia Comunque quegli Stati del Sud Gli sport nazionali sono Il football americano Il basket E la caccia al nero Facciamo una battuta Però Non è poi tanto Una battuta Purtroppo Quello è il guaio Il guaio Da facendo Comunque Negli Stati del Sud Sfortunatamente C'era una situazione Ancora non facile Da quel punto di vista Per Quella cultura Che c'è ancora C'è ancora e cresce Esatto Purtroppo Purtroppo è così E in questo contesto Anche quella Che alla fine È una battuta Diciamo Di Jerry De King Che non è rivolta Verso i neri Però in questo caso È rivolta Verso gli asiatici Non aiuta Perché comunque È una È una battuta Che ripeto Secondo me Jerry Lodge Non è razzista Però la cosa Che ha detto Per fare il simpatico Tra virgolette È una battuta Di stampo razzista Sfortunatamente Qualcuno Dal backstage Dovrebbe prenderlo Da una parte E dirgli Ciccio Non è il caso Smettila Cioè Se Se non riesci A fare Il tuo lavoro Di color Come detto Senza dirvi Le cose di questo tipo Basta Cioè Ti prendiamo E usiamo qualcun altro Facciamo Il commento a due Il commento a tre Ma poi tra l'altro Le dice Con un commentatore Con un commentatore nero Cioè a volte Fa le battute razziste Con il commentatore Con Sexton a fianco Che è nero Cioè a novembre Durante Durante la puntata di Raw Umberto C'era un match di tag Con Umberto Cariglio Umberto Cariglio Era lì Che atteneva lo tag E saltellava all'angolo E Jerry De King Lodge Ha definito Guarda Umberto Cariglio Vuole ottenere il tag Sembra un po' Giallo saltellante Che è uno stereotipo Pesantemente razzista Nei confronti dei Dei messicani Tant'è che quella battuta Fu tagliata poi Dalla Diciamo Dalla 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 puntata di Ulu Praticamente Dalla puntata di Ulu Del giorno dopo Cambia È un mondo È un mondo diverso È un mondo diverso È un mondo È un mondo migliore Perché comunque Ma meno male Ragazzi Che comunque Su certe cose non si scherfa Perché comunque È un argomento È un argomento ancora Ripeto Specialmente gli Stati Uniti È ancora un argomento Molto Che brucia ancora Perché comunque È molto molto fresco Tornando a noi Promo di Charles Flair Promo di Charles Flair Nel ring Con Nel ring Questo dovrebbe essere Un babyface Eh ti devo dire A me è sembrato Non mi ricordo mai La ragazza Allora Io non so Chi sopporto di meno Ormai come babyface Charles o Becky Perché Perché fai Promo Perché Ti spiego Perché fai Promo da Hill Nel ring Perché è un promo da Hill Però i commentatori Dicono che ha ragione Cioè c'è qualcosa C'è qualcosa Che non Che non mi torna Fa la spaccona Più che promo da Hill Fa la spaccona Uè io ho vinto tanto Sai qual è il punto Sai qual è il punto Che comunque Alla fine lei Effettivamente Tutte le cose che dice Le dimostra Sì Ma è quello Cioè il suo essere face Non è Che ha Come dire Nobili intenti Uè ciccio Io vinco Quando dico di vincere Eh ha ragione Vince Non ruba Lotta Però come te lo dice È un po' da Diciamo Da prima della classe È un promo da Hill Ma i commentatori Te la vendono Come se questa Fosse una face Sì Ma è come quello Che ti dice Io preso 9 Perché sono bravissimo C'è questa evidente Dissonanza Tra i commentatori Che comunque ti dicono Quello che la compagnia Vuole Vuole che dicano Sostanzialmente E come lo interpretano E le cose Che le fanno dire Praticamente Capisci Cioè comunque C'è un Evidente dissonanza Tra i due Per chi è stato Nel mondo scolastico È come quelle ragazze Che ti dicono Ma non sappiamo nulla Non studiamo Siamo incapaci Ti prendono 10 Poi lo prendono Come dire Vabbè Io volevo essere Amica Per farti capire La mia situazione No Perché è da presa Per il culo È da cattiva Qui è uguale Ti dice che è fortissima Bravissima Temibile Nessuno la può battere Ma te lo dice In un modo Come ti dice E tu non sei niente E il commentatore dice Hai ragione Vince sempre Poi Bobby Lashley Ha battuto No Way Jose Lana ha cercato Di far perdere No Way Jose Ho sperato Che No Way Jose Vincesse No Beh dai Sarebbe stato un po' troppo Onestamente Una sconfitta Non ce la faccio Io non ce l'ho pensato Anch'io Però voglio troppo bene A quell'uomo Non ce la faccio Però comunque Lashley gli ha detto Di chiudere Quella cazzo di bocca Sostanzialmente Madonna Io voglio lo spear Dell'onnipotenza Sull'ana Quoto mila Non possono farlo Eh lo so Però Lo so Che non può fare Però lo split Arriva Lo split arriverà Sicuramente Bisogna vedere quando Lo split arriva Lo split arriva Sicuramente Io esagero sempre Il discorso è capire Poi sta qua Che cazzo va a fare Torna con Russo Niente No Non fa niente Però anche Lashley Che va a fare Vediamo un po' Che succede Poi Viking Raiders Contro Ricochet E Seneca Alexander Match molto strano Tra l'altro Sì Face contro face Sì esatto Face contro face E i Viking Raiders Che vincono con una simile Mossa finale Perché non l'hanno fatta Proprio granché bene Onestamente La mossa No La Viking Experience La Viking Experience Esattamente Ti hai sentito il rumore Della giostra Quando l'hanno connessa No Non si è sentito il rumore Mi vedete i bambini Sulla giostra Dei Viking No La giostra La giostra è arrivata dopo Con l'intervista backstage Con gli street profits E Bianca Belair Mamma mia Con Bianca Belair Che li ha richiamati all'ordine Tra l'altro Meno male Dicendo La cosa Diavolo fate Guarda Con questi due Avete sempre perso Quindi Cercate praticamente Di mettervi a posto Io ho pensato Ho pensato intensamente Alla scena di Friends Quella del Quella con Con Ross Che deve andare Che viene comandata A bacchetta Dalla fidanzata Sì E Chandler che gli dice Ah Ti chiede di fare questo Ti chiede di fare quello Una roba lì Una roba del genere Poi WAPA Perché effettivamente Era questo Cioè Praticamente Gli ha fatto il culo Tipo da Proprio con la frusta Smetti di dire cazzata E fai il serio Sì Perché Mi ha fatto molto ridere Perché Giustamente Quello che ha detto è Voi due Con questi qua Ci avete Ci avete sempre perso E meglio che vi mettete a posto Perché se no Basta fare i coglioni Questi titoli di coppia Praticamente Questi titoli di coppia Mi sa che Intorno alle vostre vite Durranno poco Se l'alteggiamento Ma sai che Forse è meglio Perché comunque Li distingue Cioè Distingue Bella Belair Dallo swego Per quanto lo swego Quello è vero E servirà poi A lanciarla più avanti Ovviamente Questo tipo di discorso Lo spero Deve essere un black Di serio Tra i simpatici Per tutta la sera Praticamente Abbiamo visto Tra l'altro Rollins Da solo Praticamente A Diciamo A lanciare A lanciare Negli strali Praticamente Del tipo A tutti Quelli che non credono Mi avete lasciato Senza alternative Stasera Praticamente Allontanerò Ogni dubbio Tutti 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 Erano bisogno Di Aver fede In qualcosa Voglio Voglio che voi Sappiate Che io sono ancora Lì per voi Il vostro messia È praticamente Praticamente Salito Salito Il cielo Mi manca L'amen Non manca l'amen Esatto E la cosa È culminata Nel main event Con la vittoria Di Drew McIntyre Contra un grande Cioè tutta la sera Hanno spinto questo match Il match è durato Cinco minuti e mezzo Niente di che È pur sempre Il campione Stasera Mi ha fatto molto ridere Quando all'inizio Zelin ha detto Una roba tipo A McIntyre Quante persone Possono dire Di aver avuto Ben due WrestleMania moment In una sola serata E io tipo Lì faccio Tanti Tanti magari no Daniel Bryan sì Daniel Bryan Ma Bryan Ne ha avuti due E tra l'altro Lui li ha avuti Entrambi on air Non un off air Dopo 20 minuti Dall'anno Anche lo stesso All'inizio Allora Io non so Se Io non so Se il match Rollins aveva perso Rollins non era vinto La sera Ah vabbè Sì L'ha preso Con la supera Che Jun L'ha perso Sì vabbè È un resta media moment Da perdente Diciamo Quello Cioè comunque Esatto Il fatto che Aveva perso Il match Però vale molto Di più di un match Con The Big Show Dopo Restelmania Sì Poi l'ha girato In un'altra maniera Che fa ancora più ridere Perché Un uomo Che ha avuto Due match Titolati La stessa sera A Restelmania Ma non era Ma Restelmania Era finita da 20 minuti Dettagli No allora Io non so Se Negli albidoro Praticamente Conteranno Quel match Come il vero Main event Di Restelmania Cioè il match Il match con Big Show Però loro dovrebbero contare Come match Di Restelmania No un momento Tecnicamente è un match Di Restelmania Tecnicamente è un match Di Restelmania Ed è l'ultimo match Della card Se andiamo a vedere Se proprio andiamo Se proprio andiamo Se proprio andiamo Vedere Tecnicamente È l'ultimo match Della card Quello Quindi A livello statistico Secondo me Dovrebbe essere Quello l'ultimo match Di Restelmania Non so come Verrà contato Su Wikipedia Su Wikipedia Come l'hanno contato Non è che su Wikipedia Hanno anche scritto Dopo il Bognard match Che AJ Styles Era morto Ucciso di Undertaker Quindi Non lo prendo No non era morto Una mano era viva Ricordati Non lo prenderei Non lo prenderei Come un error raccolato Ma tu immagini Nella Night 2 Di Restelmania Nella Night 2 Di Restelmania Hanno scritto Hanno messo Sia Drew contro Lesnar Che Diciamo che Big Show contro Big Show contro Drew Bagnard Ma tu immagina Finisce Restelmania Fuochi d'artificio La gente che dice Oh dopo 8 ore Vado via Parte Drew Con l'intervista A strappalacrime Con la gente che ha plato E Waaay Stop Big Show Nel Menevento di Restelmania Dopo 8 ore Che bravo Però ho fatto Allora Allora Su Wikipedia Mettono Drew McIntyre Conto Big Show Come dark match Praticamente Cioè E fa parte Della seconda serata Ma è messo Come dark match Alla fine Perché viene Però non è un dark match Perché viene mostrato Il giorno dopo Quindi boh Non so se Non lo so È una situazione un po' Sarà un mistero Uno dei misteri Vedremo Vedremo più avanti Diciamo Se sarà Se sarà Contato Come Come Menevento di Restelmania O meno Tornando a Tornando a Noi Tornando a Noi Di Rollins Che poi ha attaccato McIntyre Quindi Tocca quello Esatto Il discorso Diciamo Il discorso Della Come so dire Il discorso Della Di Di Rollins Delle varie promo Di Rollins Che era trovato Per tutta la sera E poi culminato Diciamo Nella sua presenza Nel main event Perché prima Ha preso Praticamente Il Come posso dire Ha Brancato Praticamente Le gambe Drew McIntyre Durante il match Anche se poi alla fine Non si è visto E poi alla fine del match Dopo che McIntyre Aveva Dopo che McIntyre Era battuto Andrade Si è poi rivelato Praticamente Attaccando Attaccando Il campione Il campione WWE E Mandandolo Praticamente al tappeto Con 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 lo stompe E Diciamolo Di fatto Lanciandosi Comunque Come prossimo Spidante Alla fin fine Vai Si Nient'altro da dire Possiamo essere tutti d'accordo Su quello Alla fin fine Sarà Sarà quello Probabilmente Quello che ci tocca Come Diciamo come Non voglio dire Me ne vende Man in the bank Perché comunque Vediamo Vediamo cosa fanno Però Match per il titolo Da WWE Man in the bank Dovrebbe essere quello Dovessi dire Sai che siamo tutti d'accordo Su quello Mattia No scusami Sono un attimo perso No se McIntyre contro Rollins per il titolo Sarà il match di Money in the bank Ma Come ho detto In alto Come ho detto ieri Non ha Fine Cioè Ne parlavamo ieri Rollins ha perso Resto il Mania E comunque Va per il titolo Ok Però alla fine Come ben detto te Ha attaccato il campione Sì Chiaro che Non c'è logica Anche perché Non hai nessun altro Quindi È chiaro che non c'è logica In uno che perde Ha una title shot Siamo tutti d'accordo Però Però in realtà Cioè Diciamo una cosa Però almeno Diciamo Almeno diciamo L'han spiegato Mettiamola così No Allora Aspetta Aspetta Te la dico anche In un'altra maniera Che ha più senso Se ci fossero ancora I general manager Con il general manager Che dà una title shot A Rollins Allora sì Sarebbe A meno senso In questo caso Che è Rollins Che è andato A attaccare il campione Puoi anche Giocartela In maniera più Cioè Può anche essere Più plausibile Perché comunque È andato lui A attaccare il campione Sì Cioè È come se Per esempio Io perdo il mio match Io perdo il mio match Però allo stesso tempo Vengo a rompere Vengo Vengo a menarti Tu c'hai voglia Di menarmi E tutto il resto E quindi Quindi io ti dico Lo facciamo solo Se mi dai la shot titolata Allora a quel punto lì Cioè Diciamo che Avendolo attaccato Puoi anche Vederla in quella maniera Capisci che intendo Certo Intanto Con Vai scusa Vabbè Con lui che lo attacca Puoi anche Fare in questa maniera qua Non Ripeto Anch'io l'avrei fatto Però Facciamo Ragioniamo anche in questa maniera Se non gli mandavi Controllins Chi c'era? Andrade È un'ottima domanda Effettivamente Andrade al titolo Gli Stati Uniti Esatto È quello Il miglior avversario Oh Orton Top Il miglior avversario Anche Orton ha perso Quindi Vincenti non ce n'erano Di base Il problema Il problema è che Comunque Gli Non ce li ha A Ro Purtroppo Di il grossi Da mandare È un po' come È lo stesso discorso Di Smackdown A Smackdown Non hai babyface grossi Da mandare contro Goldberg E a Ro Non ce li hai Dall'altra parte A Ro Non hai baby Gli il da mandare contro Lesnar Non hai forse Quasi tutti e due Devi costruirti La Ro Ce li hai Ma hanno perso Quindi devi comunque Trovare il modo Di buttarli Cioè per dire Comunque Il problema Il fatto che Lesnar aveva la cintura Non ha creato Non ha dato Neanche la possibilità Al roster Di creare Degli Che potessero andare Contro Contro Lesnar Perché tanto Erano tutti babyface Sì Gli hai comunque Costruiti Però hanno perso Semplicemente Devi costruire il modo Per cui vanno Con il campione face Però Vengono Uno da una faida Persa Dopo quattro mesi Lo detorto Un altro che ha perso Una faida Lunga Abbastanza lunga Quindi boh Vediamo Per ora Non caschiamo male È un bel match McIntyre Rollins Allora intanto Diciamo che Sto guardando Un attimo Twitter E C'è una situazione Molto particolare Praticamente E sta diventando Un trend O comunque O comunque Sta prendendo Abbastanza Diciamo Abbastanza piede Dimmi che il trend Dello sceriffo No il trend È wrestling Twitter After dark Sostanzialmente Questo è Il Diciamo Il E l'hashtag Che sta Che sta prendendo Mentre ci sono foto Foto Diciamo Di Di wrestler O meno Più o meno Vestiti Praticamente Alcuni E anche fan Un po' Un po' Alcuni più guardabili Di altri Decisamente Decisamente Meno Meno Guardabili E Sfortunatamente A questo A questo Trend Si è Si è Anche unito Will Osprey Con una Foto che non so Se mandare Oh no Ecco Abbiamo Questa è la foto Solite foto After sex Eccola qui Questa è la foto Diciamo Di Will Osprey Adesso la vedo Perché non sei La vedrai E' pronto per Playgirl E' pronto per Playgirl Diciamo Tant'è che Anche Che scrive Anche Hands of the merchandise E' una palese citazione Di Shawn Michaels E beh Si Nella film song Di Shawn Michaels E' bello Che poi scrive sotto Mi chiedo se mi pentirò Di postare una cosa Di questo tipo Secondo me si Secondo me si E' già Se ne è già Abbastanza Abbastanza pentito No va detto che Comunque Will Osprey Ha anche un buon senso Di humorismo Quindi comunque Quindi comunque Va detto che non è Non è solo Praticamente aver fatto Una cosa di questo tipo E se Mattia Se Mattia ha visto Il legge Christian Shaw Probabilmente si ricorderà Di questa Di questa foto Aghiacciante Di Tommy Dreamer Che stiamo vedendo adesso In Ah si Io non l'ho mai visto Però legge in Christian Mi rifiutavo In scena Diciamo in diffusione Che Possiamo anche togliere Togliere immediatamente Per Diciamo Per non dare Per non causare incubi Diciamo i nostri Tra l'altro Quanto cazzo E' diventato Grosso Osprey Ragazzi Si Pensavo Pensavo dicessi Quanto cazzo E' diventato grasso Tommy Dreamer Ed ero pronto A dirti Perché quando mai Non è stato grasso Tommy Dreamer No Osprey Osprey è enorme Osprey si è ingrossato Dal punto Dal punto di vista Chissà se riuscirà a fare Tutte le cose Che faceva prima Questa è un'ottima 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 domanda Con tutta la massa Che sta mettendo Però parlando di massa grassa C'è anche questa foto Che stiamo vedendo In Vabbè Si è anche Si è anche unito Diciamo Orswoggle E' massa Può dire che è massa Esattamente No ma anche lui Ha sempre Ha sempre detto Nell'intervista shoot Di essere sostanzialmente Un nano grasso Parlo di Parlo di Orswoggle Naturalmente C'è anche Roderick Strong Aveva fatto una foto Di questo tipo Quando aveva vinto Col titolo Nord americano Esatto Nord americano Sì Che altro aggiungere Che altro aggiungere Su questa Su questa puntata Di Ronnie Payton Meno noiosa Rispetto alla settimana scorsa Però rimane sempre Il problema Rimane sempre Il problema Del format C'è poco da fare Il problema del format Che purtroppo Quello Non puoi Non puoi cambiarlo Finché Non cambieranno le cose Finché non si tornerà A una situazione Diversa Da quella Di cui siamo adesso A livello storico Il problema È che Sarà così per un bel po' Copio e incollo Esatto Le donne Non l'hanno fatto Non quelle WWE Naturalmente Ecco No Una cosa Di cui volevo A cui volevo accennare Se avete visto i video Di questi giorni Infatti su TikTok Quelli 5 minuti Sono pronta O sono pronto Anzi Sì Ecco Credo che Abbiano evidenziato Una cosa Abbastanza Abbastanza importante Questi Questi video Che le super start WWE Donne e uomini Non sanno assolutamente Ballare Non so se avete fatto Anche voi caso Diciamo A questa cosa Come ho fatto caso io A questa Ma in realtà No perché non li guardo Ah ok No Non siamo affissionati Su TikTok Mi sono arrivati Diciamo In Diciamo In timeline Su In timeline Su Twitter Praticamente Negli ultimi Negli ultimi Non sono Diciamo Ragazzi Delle case Di TikTok Ecco Non sono Nei top trending Va Mettiamolo così Parlando di NXT Per qualche istante Allora domani comincia Il torneo per il titolo Cruiser O meglio Il G1 Climax Versione No anzi Scusa Il Best of Super Junior Best of Super Junior Best of Super Junior Versione È un'idea carina Alla fine È una roba Che si chiedeva Di fare da un po' In WWE Ho fatto la battuta Però comunque Ho un'idea che a me piace C'è tanta gente Che lo chiedeva Di farlo in WWE Esatto Perché comunque C'è tanta gente E poi È un modo per riempire Un show È un modo anche Per occupare Tutte queste settimane Esatto Esattamente Non ho Non ho Un bel gruppo di partecipanti Anche Soprattutto Sono molto interessato A vedere Il girone A Mi piace Mi piace Il girone A Mi piace moltissimo Come Diciamo Come Anche a me Io nel B Ho uno dei miei preferiti Di luce underground Non posso Dire altro Perché nel girone A Ci sono Tony Niso Jake Atlas Drake Maverick E Cuscida Quindi roba buona Ne può Ne può venire fuori Francamente Diciamo Da questo Da questo Da questo Raggruppamento Mentre per quanto riguarda Invece il girone B Nel girone B Ci sono E io del fantasma Che farà il suo debutto Nel nostro televisivo W Negli show televisivi W Per me è sempre Querno Isaiah Isaiah Swerve Scott Akira Tozawa Gentleman Jack Gallagher Quindi questo Mi piace un pochettino meno Come Diciamo come Come torneo Però Io spererei Scott Cuscida Però può essere Può essere Diciamo Può essere Diciamo Una cosa interessante Sai che secondo me Il Il fantasma Va lontano Guardi Io King Querno Lo vorrei Però Non so È appena arrivato Potrebbe anche Fare bene Però Non lo so Cuscida Scott Cuscida King Querno Perché lo chiamano Per sempre Come lo amo Cioè Buttali via Se poi arriveremo A quella finale Buttala via Intanto si inseriscono Su youtube Anche persone portoghesi Boanoice Credo che sia La pronuncia corretta Boanoice Vittoria Silva Boanoice Dialetto Mi pazienza Gianluca Com'è Come che cosa Portoghese Ricordati che È molto È molto assonante Al Veneto Il Veneto In Portogallo Funziona Da quando Di grazia Da quando I Veneto In Portogallo Ti capisco Ok Va bene Benissimo E viceversa Sai che Allora Mi raccontavano Che Mi raccontavano Questa Che fa molto ridere C'era Me lo raccontava Il direttore Della mia Scuola Dove andavo Sì Che praticamente Il Un disegnatore Che lui conosceva Quando andava in Francia Per fare le Lui non parlava Il francese Quando andava in Francia A fare le convention Si portava dietro La madre Perché Perché la madre Parlava milanese Strettissimo In dialetto Milanese Strettissimo E i francesi La cattivano Sì Beh Il francese Il francese Piemontese Lombardo Hanno molti punti Molti punti di contatto Eh sì Ma Chi ha il dialetto Aiuta Qualche volta Lo dico Avendo un collega Che va in Portogallo Da anni Praticamente Quasi madrelingua Ma è Veneto Cioè là All'accento Così Però Buonocci Lo dici Ci chiedono se il torneo Lo manderanno avanti Anche tu o Five Live Non lo so onestamente Non credo Perché comunque No Giravoce solo in NXT Esatto Il match Io pensavo Facessero Uno o due match Lì Così Per fare Spazio Però hanno detto Che solo in NXT Quindi no C'era Una cosa Che avevo letto Su tweet Ah no Chi c'è domani Ospite A A The Bump Ci sono Beh William Regal Che dirà del titolo Tag Perché comunque Pare Che probabilmente Andremo a fare Un altro torneo O un torneo Sarà riassegnato Magari Io quel torneo Ve lo dico Se annuncia Gli Ever Rise E gli indiani Penso di poter Fare un orgasmo In diretta Allora Domani ci saranno Ospite Christian The Big Show William Regal L'abbiamo detto E Mandy Rose Ottis Saranno ospiti Domani di The Bump Alle 16 ore Italiana Alle 10 ore La Costa Est Ma gliela fate La domanda Come avete espriso La vostra Prima notte Da Diciamo Da coppia Ricordiamo Che venerdì Dovrebbe essere Faccia La faccia Tra Diciamo Tra Mandy Rose Sonia De Vila Smackdown Nella puntata Nella puntata In onda Tra venerdì E sabato Ricordiamo I match La settimana prossima Di Raw Abbiamo Rey Mysterio Contro Blake Murphy O come l'ha chiamato Rey Mysterio L'ha chiamato In un altro modo Cioè Se è un po' Buddy Murphy Non Blake Murphy Sì scusami No ma Diciamo Si è incartato Un certo punto Nel dirlo Aspetta Vedo un attimo Di beccare Quello sarà un gran match Di beccare il promo Aspetta un secondo Che vado Che vado a prendere il promo Perché si è un po' Si è un pochettino Incartato Ieri sera Nel promo Eccolo qua Sì Eccolo qui Lo rimettiamo in onda Lo prendiamo direttamente Da YouTube Un attimo solo Eccolo qua Ce la ricordiamo tutti Quella O qualcosa Brown Murphy Comunque Comunque scusate Mi è scesa una lacrima Appena Appena raccontato La fine del piano decennale Di Kane Mi è scesa una lacrima Trato ce la ricordiamo tutti Quella bellissima Quella bellissima run Di Mysterio Sì Come giustamente Ci dico in chat Stava probabilmente Per dire Buddy Murphy Poi si è ricordato Che non doveva dire Il nome Non doveva dire più Buddy Esattamente Esatto Probabilmente è quello Il mio cuore si stringe Quell'incasso di Kane Con Mysterio Con quella cintura Sì Allora Quindi settimana prossima Rey Mysterio Contro Murphy Poi avremo Alistair Black Il VP Mi avrebbe perso Esatto Alistair Black Contro Contro Austin Theory E Apollo Contro MVP Perché sono I money in the bank Perché sì Sostanzialmente Specialmente Nel caso di No l'ha spiegato MVP Perché lui Siccome è uno Che C'ha la solde Se l'è scelto lui L'avversa Ha detto Quello stronzo Datemi lui No ma perché lui Deve fare match In qualificazione Per il money in the bank Cioè Quello che non capisco Cioè In base a quale logica MVP è meritevole Di fare un match In qualificazione Per il money in the bank Perché hai soldi Perché è stronzo Ecco Vabbè ok Perché hai soldi Scusa MVP Non c'è logica Dietro diciamo MVP Hai soldi Ricordate A livello di criterio Di criterio Di merito Praticamente Non c'è Non c'è logica Probabilmente finanzia lui Il torneo di qualificazione In the bank Perché MVP Perché MVP Fa i match in qualificazione Sono quelle domande Che non hanno Che non hanno Diciamo Perché 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 MVP Fa i match in qualificazione Per il money in the bank Perché su Italia 1 In questo momento C'è fuga di cervelli Per esempio Sono quelle domande Che non hanno spiegazione Di cose Fuck you Ecco Probabilmente Fuga di cervelli È sponsorizzato da MVP Ci dicono La puntata di SmackDown Dedicata a Triple H Nella prossima settimana Perché Perché è il 25esimo anniversario Dall'inizio della carriera Di Triple H Il fatto di essere Il fatto di essere Il fatto di essere Il genero Del proprietario Della compagnia Probabilmente aiuta Da quel punto Da quel punto di vista E nonché La superstar Che ha portato Il wrestling Nell'alto Ricordatelo Dello stessi Cintelo lo stessi This star Esattamente Bravissimo Allora Vediamo un po' Che non sono Mezzanotte e venti Vediamo un po' Ragazzi È già tanto Che non abbiamo Un mese di Triple H Eh Ma infatti L'ego L'ego del buon Io ti ricordo Che a SmackDown Venerdì Han detto che La celebrazione Del 25esimo anniversario Di Triple H Comincerà a SmackDown Non han detto Che finirà a SmackDown Quindi Non escludo che possa Poi continuare anche A Raw tre giorni dopo Quindi Quindi Attenzione Che poi Che poi magari esce E dice Per festeggiare Entrerò nel Mondo in the bank Così A caso Allora Vediamo un pochettino È arrivato qualcosa Su Whatsapp Quindi leggiamolo Suggerimento di Patron Potreste cominciare Una serie di Su T.I.W. Su Total Extreme 2020 Che esce a fine mese Gestendo una compagnia Già esistente Magari creandone Una nuova Partendo dal basso Il problema è il tempo Quello è il guaio Eh ragazzi Secondo Guardate che T.I.W. Guardate che è lunghissimo Da giocare Perché comunque Per fare Almeno in quello vecchio A bucare uno show Ci mettevi anche un'ora A fare Una puntata di rosa Tu prendevi una WWE Poi ci vogliono anche l'idea Non è solo il tempo Anche l'idea Esatto Non sbuff So già cosa bucare T.I.W. T.I.W. È un bellissimo gioco Però è dannatamente lungo Quindi Vabbè Perché come tutti i giochi Di quel tipo Più è dettagliato Più è Più è Più è Più è Più è Ma infatti Total Extreme Come Total Extreme Warfare Era No Extreme Extreme Warfare Revenge T.I.W. Era molto più 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 semplice Però allo stesso tempo Avevi molte meno cose da fare Esatto Tant'è che T.I.W. Ti rompevi le balle Molto prima E credo che sia anche un gioco Tipo 15 anni fa Quindi Quindi diciamo Sì È un pochino vecchio Come ricordo Però esattamente ci sono ancora No però T.I.W. Lo prendo C.I.W. Comunque Di giochi che prendo Però ripeto È un Come posso dire Troppo Troppo lungo Come cosa Apprezzo l'idea Però è È troppo lungo Non abbiamo molto tempo Di farlo A me piacerebbe fare Moltissimo Apprezzo molto Sai cosa mi piacerebbe fare Il ragazzo americano Che ci sta facendo i complimenti Per farsi pagare Per il Per i Sì ma sono i casi Belli questi spam Che non capisci niente Di quello che stiamo dicendo Grazie No dicevo Mi piacerebbe Mi piacerebbe Moltissimo fare Però dobbiamo 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 Comunque Un po' Un problema Farlo Perché comunque Non è Non puoi portarlo avanti Su due pc diversi Anche perché tu hai un Mac Fare la modalità La promoter mod Di Di far pro wrestling Che a me piace moltissimo Che è una modalità Che a me piace molto Però Anche in questo caso Però Non puoi fare Non puoi fare Un giocatore Prende una compagnia Un giocatore Ne prende un'altra E giochiamo contro il computer Purtroppo non è previsto Della modalità Sì sì Ma infatti L'Isabit ci hanno fatto Solo una puntata Su quella roba Esatto Se ti ricordi Sì mi ricordo Una vostra opinione Sui due eventi ICW One S10 2005 2006 Ricordate il match Tra Edge, Foley, Lita Contro Terry Funk E Tommy Dream E come se me lo ricordo ICW One S10 2005 Rimane ancora Uno dei miei Preferiti in assoluto Perché comunque Perché comunque Era anche un periodo Particolare Diciamo Della mia fandom Lo vivevo in maniera Particolare Cioè Avevo voglia Di vedere La Questo Praticamente Questo mio periodo Di revival Della Della ICW Il 2006 Non è un brutto show Ma con l'ACW Non c'entra un cazzo Cioè con l'ACW Non c'entra veramente niente Esatto È uno show WWE Cioè È uno show WWE Col marchio ICW Per rinanciare Il brand ICW Il 2005 Se fosse stato Come ha detto Peraltro Paul Heyman Anche nel suo DVD My name is Paul Heyman Se fosse stato Praticamente La fine di tutto Cioè l'ultimo evento Della ICW Sarebbe stata la chiusura perfetta E ha perfettamente ragione Sì È vero Perché si stava Assolutamente perfettamente Il match Tra Edge, Foley, Lita Contro Terry Funk Tommy Dream E Rebiola È un buonissimo Rissuonarcore Nel libro Di Terry Funk No scusa Scusatevi Non libro di Terry Funk Nel libro di Mick Foley Arcore Diaries Raccontano Ed è una Ed è la parte migliore del libro Ed è un libro orribile Arcore Diaries È un libro bruttissimo Di quelli stinti da Foley Quanto meno Una delle parti migliori del libro È la descrizione Dei problemi Che loro hanno avuto Da punto di vista Da punto di vista Della costruzione Della Faida Perché non hanno fatto Fare i promo A Tommy Dreamer Terry Funk Sostanzialmente E quindi Raccontano un pochettino Le battaglie Che hanno giocato Nel backstage Il fatto che comunque Foley voleva tentare Comunque di legare Questa cosa Alla Faida Che poi è partita Per Summerslam Con Melina Eric Flair Che erano poi Un po' rimasti coinvolti Non ce l'hanno fatta E niente Però comunque Tornando agli WNC 2006 È un buono show È divertente Quanto vogliamo Con l'ACW Non c'entra Veramente un cazzo Come non c'entra Un cazzo Con l'ACW Il rilancio Che poi è avvenuto Dal martedì successivo Sì Non è il numero Di titoli Allora Buona serata ragazzi Parliamo di Kane Uno dei miei Preferiti Sopravvalutato Per via del personaggio Iconico O eterno incompiuto Per il basso numero Di titoli vinti E le numerose Acquisioni perse Più la seconda Dovesse dire Cioè Kane Kane è un lottatore Che ha avuto Molto meno Di quanto meritasse Non lo metto Non lo metto Tra i lottatori Più grandi di sempre Intendiamoci Però secondo me Il fatto che lui Abbia avuto Due tre titoli Del mondo Credo Perché comunque Ha poi rivinto il titolo World of the Way Championship Lui nel suo prime Non ha avuto Un titolo del mondo Se ci pensi Esatto Perché poi L'ho avuto L'ho avuto molto dopo Lui quando Nel prime della gimmick Ha avuto il titolo Un giorno Perché l'ha vinto King of the Ring A King of the Ring 98 E poi l'ha perso La sera dopo Con Austin E' uno che ha avuto Molto meno di quanto Meritasse Sicuramente A livello di gimmick Sicuramente uno dei migliori In assoluto Tranquillamente Sì Il suo esordio È ancora uno dei più belli Di sempre Assolutamente Ma la rivalità Comunque L'intera costruzione Del suo arrivo in WWE Con Undertaker La storia comunque La storia del fratello Che si credeva morto In un incendio Che poi ritorna Per vendicarsi di Undertaker Comunque A livello di booking Quella storyline Nel 97 È una grandissima storyline Grandissima Grandissima storyline Assolutamente Nessun dubbio Ti dicono Non è il numero di titoli Affari Grandissima Se sia chiaro Che è un immortale Un personaggio così Però avrebbe dovuto Dare di più No avrebbe dovuto Avere di più Non dare di più Perché comunque Io non discuto L'impegno Da parte di Kane Nel suo contributo Semplicemente ha avuto Molto meno di quanto Meritasse Non mi sento Non ho nulla da dire Di negativo Nei suoi confronti Gli preferisco altri Dal punto di vista Del lottato E anche a livello Di personaggio Però comunque Riconosco Che la gimmick Era sicuramente Uno dei migliori Della storia Della WWE Senza dubbio Ma senza nessunissimo dubbio Che ne pensate A mani da me 2020 Per entrambi i titoli Un match tra Becky Lynch E Charlotte No Assolutamente no No Non mi piace l'idea No Basta Non mi piace l'idea Anche perché poi Devi farla finire in no contest Quindi Perché sicuramente Non umificano due cinture Quindi poi Becky contro Charlotte Basta Cioè Veramente basta Cioè Per un po' Veramente 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 basta Ste due Una contro l'altra Dobbiamo tenere separate Almeno un anno Dovesse Dovesse dirle Vuoi farlo Puoi farlo a Wrestlemania Però l'hai già fatto Un lavoro di questo tipo Quindi Le terrei lontano Un bel pezzo Poi Vediamo un pochettino Spero che Spero che vinca il Man in the Bank MVP La mia scommessa Dunque ricordiamo Per quanto riguarda Kane Che Stiamo Che io sto ancora aspettando Il libro Eric l'ha già avuto Però Faremo Io ce l'ho qui Io ce l'ho qui Eccolo qui Eccolo qui Adesso ve lo faccio Lo metto E' distante E c'è l'effetto della luce Che lo copre Però il libro ce l'ho qua Bisogna chiedere al nostro Amico Nostro amico di Piacenza Penso che ce l'avrebbe detto Se gli fosse Esatto se è arrivato A me è arrivato A me è assolutamente arrivato A me non è ancora A voi magari no A voi Anzi Togliamo il magari A voi non è purtroppo arrivato Però a me Io ce l'ho qua Ce l'ho qui Ce l'ho qui sulla scrivania Gli ho dato già Ho dato un'occhiatina Alle prime 10-20 Ah non l'hai ancora iniziato a leggere? No no Bene bene no Non ho ancora avuto Il tempo di Dio scusa D'iniziano ma lo farò Lo farò nei prossimi giorni Vediamo un po' Kane e Tecker Non hanno bisogno di titoli Gimmiche iconiche che rimarranno Nella memoria in futuro Più di altre essere Che hanno vinto titoli Sì è vero Però è anche vero Che comunque Tecker i suoi titoli Li ha vinti Eh ma anche lui Non ne ha vinti tanti Tutto sommato Ne ha vinti Meno di quelli Che ti aspetteresti Però comunque ne ha vinti Sai cosa? Ha cominciato a vincere Da un certo punto in avanti Dal 2000 Paradossalmente Lui ha cominciato a vincere i titoli Da quando ha cambiato gimmick Perché comunque Quando è diventato Quando è diventato Neanche quando è diventato Badass Da quando è diventato Badass ma Quando è diventato Big Evil Da quando è diventato Ill Da quando è diventato Ill Ha ricominciato a vincere I titoli E poi Ha veramente Cominciato a A mettere le mani Sulle cinture Molto spesso Quando ha cominciato Quando ha cominciato Il periodo in cui Faceva match Da Madonna Con A parte Shawn Michaels Vabbè però Battista Comunque quelle rivalità Anche lunghe Dove comunque Faceva anche dei bei match In pay per view Allora lì Si sono effettivi Effettivamente fidati A O comunque Hanno scelto Di dargli i titoli Comunque Di dargli I titoli del mondo Era sempre World of the way Championship Perché Perché era titolo Di Smackdown E lui era sempre Smackdown A dargli A dargli A dargli A dargli Diciamo Un push Importante Mettiamola Mettiamola così No No Magari Un push Importante No Però magari Qualcosina Gliela danno Sì Qualcosina Gliela danno Sì Poi Vediamo Vediamo un po' Non pensate che Charlo sia troppo Sovrasposta Nel senso che Vince sempre Che quando non Ne ha bisogno Sì Un po' Sovrasposta Dove sicuramente Questo sicuramente Mamma mia Diciamo Il problema Il problema Che hanno Quelli Che comunque Sono Tra gli elementi Principali Della compagnia Perché Anche Becky Lynch Soprasposta In questo In questo In questo Becky Lynch Io la trovo Insopportabile Ormai Becky Becky Lynch Ha anche un problema Di gimmick Cioè comunque In questo momento La sua gimmick È insopportabile Poi C'è arrivata Da Facebook Da Daniele Zimbardi Secondo voi Ciampa contro Gregano È la migliore rivalità Nella storia di NXT Sì Secondo me sì Sì E piccola Prorogazione Una delle migliori Negli ultimi Dieci anni Probabilmente Probabilmente Sì Credete che Verrà mai portata Meglio realizzata Sì Sicuramente Credete che Sarà mai portata Nel main roster Bella domanda Boh No Eviterei Cioè sai cosa Eviterei di portarla Nel main roster Perché comunque L'hai già fatta Da tre anni Quindi comunque È vero che Nel main roster Sicuramente La vedremo più gente Però Vieni comunque Da tre anni Di faida A NXT Alla fin fine Di rifò di Raffa Quindi Eviterei di rifarla Nel main roster Prima comunque Di un certo periodo di tempo Francamente Anche perché Comunque Anche perché comunque Questi qua E NXT Hanno fatto veramente Tutto a livello di match Quindi veramente Non rimane più niente Da fargli fare Infatti c'era C'era gente Che ci chiedeva Su youtube Sul video Sull'audio Del caffè Di ieri Se veramente Se io ero Veramente convinto Che la Fai Era finita Sì Secondo me sì Non perché Non possono continuare O per il finale Magari non decisivo Ma perché veramente Non c'è più un cazzo Da fargli fare Alla fine Avrebbe senso Alla fine È finita È finita Cioè per ora Questa è finita Anche perché Lo stesso Tripoli Ce l'ha detto Se vi toccate Vi dice Enzio Quindi non so Cioè l'ha detto Chiaramente Vediamo Esatto Vediamo cosa fanno Adesso le prossime settimane Però Non vedo Sicuramente Non si toccheranno Poi che magari Tra Due Tre anni Possa capitare Che facciano Un match Uno contro l'altro Può essere Ma in questo momento Continuo Io sono Cioè Mi sembra abbastanza palese Che la fight Sia finita Poi ci chiedo Me lo chiedo Da quando recuperai Quella Rumble E su internet Non ho trovato Risposte soddisfacenti Perché diavolo Vince McQueen Vince la Rumble Nel 99 Seriamente Il massimo Che si può avere L'isplicazione È che volesse Un prodotto Impronosticabile Pieno di sorprese Probabilmente sì Cioè In verità Non ho mai letto Di piani originali Piani particolari Secondo me Più che altro Perché La fight Era sempre È proprio Per far arrivare Perché tanto Alla fine La shatto L'ha persa letteralmente Il giorno dopo fanno l'angle Dove praticamente Cioè Dove praticamente Vince McQueen Abbandona La Royal Rumble Per dare la serata libera A A The Rock Che era campione Che aveva appena Rivinto il titolo Da foley Alla Royal Rumble Nell'Iquid Match Scusate E dice Va bene Visto che comunque Ha rivinto il titolo Io ho vinto la Royal Rumble Abbandono praticamente La tetto shot E così Arresta meno Tu non difende il titolo Interviene Shawn Michaels Da casa sua Praticamente Da casa sua Con Steve Austin Che tipo Tra l'altro Shawn In quel periodo Tipo Forse una delle ultime volte Che si presenta come commissioner Dicendo Io Non posso mai vedere Quindi mi tolgo da commissioner Però l'ultima cosa che faccio È mettertelo nel culo Vince No Non ha detto questo In quel angle lì No Però Poco più avanti Effettivamente Lui Sai cosa Lui fa ancora Restalmania Da commissioner Se ricordo bene Non ricordo Lui c'è ancora Lui c'è ancora Perché comunque Perché praticamente A restalmania Vince vuole mettersi arbitro Del match Del main event Tra Austin e The Rock E interviene praticamente Michael Cosa di no Quindi Comunque Secondo me È vero È vero È vero Perché mi sembra Che si trova Commissioner Finisce poco più avanti Praticamente Non ricordo quando Comunque Per rispondere Velocemente a questa cosa Io ti direi Che più che altro Secondo me In realtà Non è nessuna Di queste due cose Secondo me Semplicemente La faida Per quanto The Rock Fosse campione La faida Principale Della compagnia Era sempre Austin McMahon Sì Ed era un modo Per continuare Elite nella faida Perché comunque Austin in quel momento Aveva praticamente Era praticamente Cioè Per non dare Una 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 vittoria Alla Rumble Back to back A Austin Si sono inventati Questa cosa Giusto per continuare La faida Ancora per Non c'era un vero motivo Onestamente E anche per fare qualcosa Magari di Diciamo di sorprendente Mettiamola Sì Anche di diverso Rispetto a far vincere Di nuovo a Austin La Rumble Che tanto è Perché Anche perché Aggiungiamo Probabilmente Contando anche La Rumble Che avevano messo su A livello Austin era il favorito A livello di uomini Era veramente stra favorito Quindi probabilmente L'hanno fatto anche Come diversivo Cioè comunque Per dire Ok È un modo Praticamente Per Come posso dire Per 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 Non dare Per No volevo dire Per non dare una vittoria scontata Quello volevo dire Anche Anche Ma perché c'era Solo Austin In quella Rumble E Vince Perché veramente Andate a vedere La Rumble Comunque Vince Si inserisce In quella Rumble Essenzialmente Perché non vuole Che Austin Vinca il titolo Se vi ricordate Quindi Ma ci stava Si si ci sta Ci sta Assolutamente Ma io infatti Io Non 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 Quella Quella Rumble Fa schifo Quella Rumble Fa schifo Quella Rumble Come partecipanti Fa schifo E la peggiore A livello Anche di lottato La peggiore O comunque O comunque Una delle peggiore Un'armata di Jobber Austin e McMahon E basta Non c'è Non c'è Ma penso sia Stato per quello Che poi hanno deciso Di far vincere anche lui Perché non c'era Veramente niente A parte Austin Quindi hanno deciso Oh se deve vincere qualcuno Lo diamo a Vince Cresce l'odio E poi Austin E' un modo diverso Per arrivare Comunque a Austin Nel main event Di Wrestlemania Piuttosto che Dargli di nuovo La Rumble Che aveva appena vinto Che aveva vinto L'anno prima Quindi a quel punto E poi tra l'altro E che Cioè Che comunque Cioè Comunque Secondo me era un modo diverso Per arrivare Dove comunque Volevano arrivare Probabile Cioè secondo me Hanno fatto anche bene Non mi vedo di criticare O dare Come motivazione Della scelta Al fatto che Vince Abbia un ego Della Madonna E' probabile E' probabile Capite che intendo Michael's Commissioner Finisce con l'arrivo Di Folly Commissioner Vero però No Non proprio No Più che altro Sai cosa Lui era Perché è vero Che Michael's È quello che annuncia Folly Commissioner Nel luglio Nel giugno Luglio del 2000 Però è anche vero Che lui comunque Come Commissioner Non interveniva Da un bel pezzo No Non c'era da una vita Mi Diciamo che Ufficial Sai cosa Ufficialmente Era ancora Commissioner Però a livello di inserimenti Non faceva Non lo vedevi mai Tant'è che anche lui Quando si Anche lui A un certo punto Aveva detto chiaramente Che cazzo sono a fare io Il Commissioner Che tanto non appaio mai Esatto Eh basta direi E tra l'altro Credo che fosse anche Una presa Una presa di posizione Al solito Tipo come quelle che fa Michael's Ovvero a cazzo di cane Giusto per farsi Giusto per Come si dire Neanche tanto Non mandarsi over Ma semplicemente Criticare la compagnia Criticare i buchi Ho perso il sorriso Diciamo che comunque Va detto Cioè non ha mai avuto Troppi peli sulla lingua No a parte quello Ma poi in quel periodo Era anche il periodo In cui Michael's Era totalmente Fuori controllo Quindi a livello di A livello diciamo di Come posso dire Forse nel 2000 no eh Come scusa? Prima sì Prima Forse già nel 2000 Si era ripulito eh Non voglio dire una cazzata Ah non lo so Non lo so Non credo sai Non credo sai Però vediamo Cioè non ricordo Sai cosa Dovrei leggermi la biografia Di Michael's Per vedere Per vedere cosa Dice Perché secondo me Nel 99 Nel 99 lui era ancora Abbastanza fuori controllo Perché è il periodo Tra l'altro in cui Lo allontanano Nel Non mi ricordo In quale periodo Lo allontanano Proprio dalla 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 Che lui fa Anche l'intervista Shoot Con Con Feinstein Quindi proprio Nel periodo in cui Lui è fuori Dalla compagnia Dotto ogni punto di vista Penso quel periodo lì Eh 99 2000 Non ricordo Il più 2000 Forse che non 99 Poi dopo si mette I vostre memorabilia Sul rest In cui siete più affezionati Ecco questa è una bella domanda E chiudiamo su questa domanda Di questa Allora io tante memorabilie Non le ho A livello di A livello A livello di rest Se vogliamo Contarla come memorabilia La sedia Di rest Il media 28 La sedia Sulla quale ero seduto A A Miami Per vedere A Non letteralmente A bordo ring Perché era Era a decima fila Però comunque No Non credo se era a decima fila Comunque una dei primi dieci fili Adesso non ricordo La fila precisa Ce l'ho ancora di là È in ottimo stato Ed è Ed è La mia La mia unica memorabilia Diciamo Legata Legata al rest Poi ne ho altre due Che ho vinto Sul Sul WB Street Team Una era Survivor Series Sì è Survivor Series È quella con Non ricordo che hanno Adesso E forse è quella dove Debutta Sting Quella col faccione di Rollins È quella dove Debutta Sting Può essere Non mi ricordo Francamente Mi sembra di sì E l'altra È un altro Paperview Che è Un SummerSlam Non ricordo di che anno Sì SummerSlam Me le ricordo perché Ce le hai Me le ricordo perché C'è in camera Le vedo quando Vengo a dormire O quelle tre No Allora La mia preferita È questa Che arrivano direttamente Dalle Reine Aspetta un attimo Che ti metto in diffusione Ecco Eccola qui Ah la prima pagina Del giornale La prima pagina del giornale Di New Orleans È tutto il giornale La prima pagina del giornale Di New Orleans Del giorno dopo Resto del Mania The Times P.K.Yoon Non so come si pronunci Con il biglietto Sì Con il biglietto Qua c'è il biglietto E questi qua sono i coriandoli Che cadevano quando B.K. Il titolo E questo Questa cosa è sempre bella Perché mi ricorderà sempre Il momento di Resto del Miniatriente È il fatto che Mickey Rooney È morto a 93 anni Ah 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 Ok benissimo Va bene Va bene Tu hai memorabilie Di Resto in Gazzaluca Ah Vabbè A parte i biglietti E le varie cose Che ho preso Quando ho cominciato A conoscervi L'unica cosa che ho È il DVD Piratato e masterizzato Della mia Resto del Miniatriente Preferita 24 Quello me lo conservo Con ovviamente Usuratissimo Il Miniatriente Usuratissimo Il Miniatriente Eh ma perché me lo regalarono Praticamente Me l'ho detto Masterizzato Poi se vogliamo Perché Ah porca troia Che succede? E non riesco a riprendere il quadro Quello vi ho Ok benissimo No poi vabbè Non è Non è una memorabilia Però Ho il DVD Res and Fall Res and Fall VCW Che fece autografare A Torino Da Mick Foley Quando venne a fare Un meet and greet A Torino Non è proprio Memorabilia Io l'ho fatto di Goldast Quella che è andata Su www.com Con me Che andò sull'articolo Quella l'ho conservata Però Il DVD Di Rest e Menia 24 È il piratato Dall'amico mio Ma vabbè Memorabilia Perché me ne vende Memorabilia tecnicamente È una rarità Se vogliamo Legato al mondo Ma che è raro Perché è praticamente Un DVD Che riusci a farmi In due giorni Neanche Dopo l'estermina Perché io Per il Menia Non andai molto felice Io ho anche La figure di Blutista Ah Quella è bella Lo so Ok Che mi avete La maschera di Strowman Quando era brutto Io ho la maschera di Strowman Quando era brutto Perché sono Non un market di Strowman Ma Quando uno lo deve essere Deve avere il memorabilia Bello Quanto costa Quanto costa La prima fila Dei Big 4 Tanto Tanto ragazzi Tantissimo Tantissimo Vi do un'idea Vi do un'idea Vi do la Quanto costa Per esempio Vado un attimo Premettendo che non si sa Lo faranno Però Vado un attimo A vedere Quanto costa La prima fila Per Summerslam Che è il programma Vabbè La prima fila La prima fila Per Wrestlemania Mettiamola così Wrestlemania Vediamo Vabbè 3-0 si possono dire Sicuramente Sicuramente sì Partiamo di Sicuramente più Allora Wrestlemania Mi sembra che sia addirittura 2000 dollari Non vorrei dire una Fesseria Wrestlemania Era a Tampa Praticamente Vado un attimo A vedere I biglietti Praticamente Quanto Quanto costavano Quest'anno In 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 prima fila Costavano Costavano Tanto Costavano Tantissimo Eccoci qua Allora Vado un attimo A prendere La sitting chart Eccoci qua Allora Costava Allora I biglietti più cari Costavano 2500 dollari A Wrestlemania In uno stadio Io mi ricordo Quella che volevamo Andare Quella di New York Quella Con il mini event femminile Quanto era 2007 2008 Prima fila Giusto per vedere Il numero dei prezzi Mi ricordo Quella cifra lì 2008 è qualcosa Prima fila Mentre Quindi siamo lì Mentre Per quanto Per quanto riguarda Per quanto riguarda Vediamo un po' se Sul Sul sito Del Allora Sul sito del TD Garden Che Allora Il biglietto più caro Per 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 Summerslam Il biglietto più caro Di prima fila Per quanto riguarda Summerslam Di quest'anno Al TD Garden Di Boston Costano Praticamente Vediamo un po' Ce ne sono ancora Perché ovviamente Vabbè Al momento Non sappiamo Non è annullato Però Non è annullato Tecnicamente i biglietti Sono ancora in Italia Ce ne sono ancora tanti Il biglietto più caro Costa 430 dollari Che non è neanche Di Summerslam Non è neanche tanto Tutto sommato Se andiamo a vedere Sì per Summerslam No Non è tanto per Summerslam Per Summerslam Non è neanche tanto Per Summerslam Di solito Almeno Si parte dal doppio Di quello che è normale Dipende poi Da Arena Arena Allora Va detto una cosa Questi sono Ah no Ci sono ancora Allora Ci sono ancora Ci sono anche Dei biglietti più cari Attenzione Perché Mi dà Biglietti disponibili Ci sono anche Dei biglietti Che costano anche 1000 dollari E sono in quarta e quinta fila Quindi probabilmente Sono anche Quelli che ho trovato io Infatti Quelli che ho trovato io Sono 400 dollari Però sono Fila 10 Fila 11 Fila 19 Fila 16 Però 1000 1100 Per esempio Nel settore Nel settore Floor H Che è un pochettino Diagonale Rispetto al ring C'è una seconda fila Che costa 905 dollari Più tasse Quindi Quindi siamo Sopra i 1000 dollari Per quanto riguarda Summerslam 1100 1150 Di base Io mi ricordo Ancora quello di WrestleMania 24 Che ai tempi Fu Tipo 2000 euro Però a spalla di lì A WrestleMania almeno è 700-800 euro in più Della media E uno show normale è 1000 Poi dipende dalle arene Se vai a Knoxville Costa meno che a Boston Ecco È ovvio Se vai Facessero un pay per view A Meso Square Garden Costa tanto Perché comunque A Meso Square Garden 2000 I costi di produzione Sono molto molto alti Quindi di A Square Garden È come andare a A WrestleMania Uguale Poco meno Ma siamo lì Per tutto Il barro ci dice I pesi dell'Art Dungeon I collezionisti Venderebbero Una mamma per avelli Li hai O stai dicendo Che comunque valgono Valgono tanti I pesi I pesi Se li avalgono Se li avalgono L'ira di Dio Se non li hai Madonna Se non li hai Diciamo Come posso dire Se non li hai E costano tanto Cioè O valgono tanto Evidentemente Evidentemente C'è un motivo Allora Vediamo un po' Hard Dungeon Weight Plate Vediamo Vediamo un pochettino Stavo Ancora mi trovavo Il DVD della 24 Ah eccolo qua Tutto scacciato Allora Pare che ce ne siano alcuni Su ebay E pare che vadano via A un prezzo abbastanza 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 Ah dice magari Da verde Ok perfetto Ah ecco Quelli vanno Ci chiedono Quello con la maglia verde In prima fila Che lavoro fa Non lo sappiamo Che lavoro Che lavoro fa Io l'ultima volta Che senti È che è un Come dire Un broker Che ha la passione È un super fan È un super È ricco Esatto Esattamente Ma è come Il Lesnar guy Più o meno Esatto Sì Lesnar guy Diciamo che è uno ricco Quello Maglietta Vebbia È proprio Credo L'ultima volta Che mi sembra Un racconto Sean Ross Sembra sia un broker Che gli piace il wrestling E ha contatti Con quelli che possono Dargli le prime file Invece Lesnar guy È uno ricco Punto È uno che probabilmente Avrà vinto dei soldi Esatto Quindi Per quello Non è sempre In prima fila Fila Però Trova sempre Costi Invece Quello lì Il broker Trova sempre Prima fila Precisa È una scommessa Forse Boh Me lo racconterà Quando morirà No Magari ha anche Dei contatti Con la compagnia Sì C'è gli acqui Ticketmaster E così Ma io perché Ho il gatto Che pensa di essere In una nave Basta In che stai sul gatto Che pensa di essere Su una nave E che impazzisce Tipo Altamare Allora corre su e giù Aggredendomi In questo momento Mi sta mordendo Va bene Va buono Direi che possiamo Fermarci qua Per questa sera Io ringrazio Mattia Di Noe Come ha fatto compagnia Fino a questo momento Grazie a voi Ci sentiamo Lunedì O prima Sul Patreon Perché lunedì Proprio sul Patreon Per No Lunedì Per il caffè Ah ok O prima sul Patreon Eh sì Dobbiamo Registrare Registraremo la puntata Di aprile Quindi Del Becchene Vediamo quando Registrarla La fin fine Se il 22 Sì E quando Magari La settimana prossima Intorno a mercoledì e giovedì Possiamo vedere Di registrare Vediamo Vediamo Il da fare No perché Volevo fare con un'altra Diretta di cazzeggio Tra di noi questa settimana Però dobbiamo chiedere A Michael Eh infatti Michael e Max Compagnia cantante Grazie anche a Gianluca Rouge Vabbè Io Via Completo la notte Lottando col gatto Riguardando il resto Il mini 24 E urlando al mini 20 Come feci Tanti anni fa Va bene Ok Grazie a voi che ci avete ascoltato Seguito fino a questo momento Sia su YouTube Che su Twitch Ah una cosa Dovete masticarlo Molto bene Perché Non si Perché purtroppo Biascica un pochino Ma Flair da Austin È molto bello Eh devo vedermelo Non l'ho ancora visto Effettivamente Però Ripeto Se non masticate bene In inglese Farete una fatica Della Madonna Perché Flair Biascica Altra cosa Se amate l'allegria La puntata di Dark Star of the Ring Di questa settimana È dedicata a Jimmy Snuka Quindi sarà proprio Un argomento molto Allerio Io ci rimano molto male Infatti me la devo guardare Abbastanza con l'animo canno E c'è stanotte alle 4 Che dove vado in onda Su No La guardo domani Ma mi sa che Perché parlerà Perché si parlerà Della situazione Di Nancy Argentino Che è la sua fidanzata Che non è Molto chiara Per utilizzare Un eufemismo Io ho visto una sneak peek Da After Dark Che ormai guardo Tutte le settimane Sicuramente C'è la famiglia Di Nancy Va bene Grazie per averci ascoltato Fino a questo momento Con il post show di Raw Torniamo martedì prossimo Alle ore 22 Con il caffè Tra domenica e lunedì O durante il weekend Se siete con il Siete con il nostro Patron E vi ringraziamo Perché siete sempre di più Nonostante il periodo E la cosa significa Veramente molto Per noi Patron.com Slash Rest in caffè Vi lasciamo Con la nostra ormai Nuova sigla Che è appunto Magico Magico Wyatt E come detto Ci sentiamo In altre occasioni Comunque Per rispondere Visto che alcuni L'avevano chiesto E non l'avevo detto Chi canta i cori I cori li cantiamo Io Enrico E Dario Esattamente Va bene Grazie Alcuni ce l'avevano detto Chi è che canta i cori Io e Enrico Eda Grazie per averci ascoltato Fino a questo momento Vi lasciamo come detto Con la sigla Grazie per averci ascoltato Buonanotte La prossima Ciao Notte La strana mascherina Che indossa sempre Bray È il dono di un maligno Che è sempre accanto a lui La maschera è speciale È magica perché Può sempre trasformare Bray in Fin Fin di Bray Magico Magico Wyatt Magico Magico Wyatt Arriva e Mena Mena Arriva E quando vuol Scomparirà Magico Magico Wyatt Magico Magico Wyatt Che magie Che magie L'ha Sto Entrare Quando vuoi I pupazzi Della tua Casa Sono Uno più brutto Dell'altro Han formato Un arcobaleno Tutto Splende Oh Che merda Magico Magico Wyatt Magico Magico Wyatt Arriva Mena 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 Arriva E quando vuoi Scomparirà Magie 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 Di Wyatt Magie 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 Di Wyatt Magie 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 Di Wyatt Magie 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 Di Wyatt Rest in caffè by night Vi è stato offerto da Costruiamo cucinini su misura Ad alta specializzazione Monoblocchi per zona cottura Lavello Frigoritero O congelatore Lava stoviglie Da 45 cm Con trasporto E montaggio Finalmente Qui li scegliete voi Facciamo i conti Porti via Più monti tu Uguale Prezzi di ingrosso FBA di Bruno Corso Potenza 183 Angolo Di Alucento Torino Grazie a tutti Grazie a tutti